L'argomento di oggi, oltre al titolo ultime novità, è comunque un argomento nuovo, non tanto per quanto riguarda la mediazione, perché il nostro organismo di mediazione ha dei buoni risultati, ma invece la negoziazione non ha avuto tutto questo risultato, almeno per ora, nel nostro foro. Per cui speriamo che dopo le relazioni dei nostri illustri relatori, insomma, una sensibilizzazione maggiore ci possa essere. Un ringraziamento speciale al dottor Morlini, che nella sua attività di formazione alla Scuola Superiore della Magistratura ha dovuto incastrare anche la nostra giornata, e all'avvocato professore Marinaro, avvocato del foro di Salerno e professore dell'Università di Napoli Federico II, per cui viene da Salerno e si è sobbarcato anche questo viaggio, anche se Salerno è sempre una bellissima location. L'avvocato Angelo Santi credo che non abbia bisogno di presentazione per noi modenesi, perché è stato nostro formatore per i nostri mediatori, tanti corsi di formazione, per cui è uno di noi ormai, Angelo. Se si trasferisce da Perugia lo iscriviamo subito a Modena, assolutamente, conosciamo tutte le sue capacità, non solo di professionista, ma di mediatore. Per cui un sincero ringraziamento, spero di potervi riavere tutti qui a Modena come relatori, anche su altre materie o affini a questo, e lascio la parola all'avvocato Borelli, componente della nostra fondazione, per fare l'introduzione. Grazie. Grazie all'avvocato Dondi. Dondi, diciamo che questo convegno sulla mediazione, sulle ADR, sulla negoziazione assistita, nasce un po' da lontano, da quando insieme ad Angelo, che oggi è diventato il presidente dell'UNAM, che è l'Unione Nazionale degli Avvocati per la Mediazione, e ho organizzato un bellissimo incontro a Roma, molto partecipato, dove ho conosciuto Marco Marinaro, che peraltro già, penso, molti di voi conoscono, perché oltre ad essere un professore e un avvocato, cosa che spesso aiuta, soprattutto a mio avviso, per quello che interessa a noi, cioè la visione dell'avvocato, e anche un giornalista che, non dico quotidianamente, ma quasi, leggiamo sul Sole 24 Ore, e che quindi, penso, molti di voi abbiano potuto apprezzare per la sua conoscenza e soprattutto sensibilità alla attualità di queste ADR, di cui non si fa altro che parlare recentemente e in questo momento. La politica italiana, nella fattispecie l'attuale governo, l'attuale ministro, punta molto sulla negoziazione assistita, ma noi avvocati per il momento sappiamo che quello che è il risultato pratico di queste norme non è ad ora eclatante, questo non lo dico perché sono un po' più sostenitore, come forse Angelo Santi, della mediazione, ma perché comunque la mediazione, che è stata una cosa abbastanza traumatizzante per l'avvocatura, che ci è arrivata tra capo e collo con l'obbligatorietà e poi con tante vicissitudini che ben conoscete, l'abbiamo cominciata a metabolizzare. Abbiamo fatto recentemente, qualcuno di voi era presente, l'assemblea del coordinamento della conciliazione forense a Bologna, un'associazione alla quale partecipano ormai 57-58 ordini forensi e in questa assemblea non è altro che emerso il fatto che ormai l'avvocatura ha completamente metabolizzato la mediazione, la metabolizzata con le buone o con le cattive se volete, ma comunque ha credo potuto cominciare ad apprezzare anche il fatto che in alcune materie, con la crescita professionale dei mediatori, con l'atteggiamento degli avvocati chiamati ad assistere la parte in mediazione, è completamente cambiato, ha comunque una sua valenza nel discorso procedurale per il quale alla fine i risultati sono importanti. Ci sono molti ordini, non parlo soltanto del nostro, che hanno una voce importante nei propri bilanci costituiti dal fatto che ci sono degli organismi di mediazione che sono, producono, come dire, forse a reddito non è la parola giusta, ma comunque sono certamente inattivo. E questo, voglio dire, chi vive come noi la quotidianità del processo, del tribunale, di quant'altro, vede quali sono le alternative e quindi capisce che purtroppo la de-giurisdizionalizzazione, insomma, forse avrò bevuto un bicchiere di Lambrusco di troppo oggi con i colleghi e amici, anche più di uno, è diventata una cosa assolutamente non rinunciabile, non procrastinabile e che non ha alcuna alternativa. Per cui dobbiamo cercare, come avvocati, di fare le opportune valutazioni su tutto questo e cercare di sfruttare quello che la legge ci mette a disposizione nel modo migliore possibile. Questa mattina mi è capitato di parlare in tribunale di questo convegno con alcuni giudici della prima sezione che effettivamente sotto certi aspetti sgridavo perché la prima sezione è una sezione che non ha molta abitudine ed attitudine a demandare delle mediazioni. La dottoressa Limondini, che è un giudice che tutti conoscete, credo da tutti apprezzato, mi diceva che effettivamente è così e che probabilmente è colpa anche di chi non ha fatto una necessaria promozione, se vogliamo, parola che certamente non è adatta, ma comunque una adeguata conoscenza per tutti, avvocati e magistrati, su queste possibilità e sul fatto che ormai ci sono tanti tribunali dove anche la mediazione delegata ha tantissimo successo e viene tantissimo utilizzata in modo che alla fine la deflazione della giustizia e della procedura civile abbia dei risultati importanti. Allora questo convegno credo venga proprio ad essere un convegno opportuno ed efficace. Mi è capitato, come vi dicevo, di ascoltare Marco Marinaro a Roma e devo dire che non sono rimasto colpito soprattutto per la sua praticità e il modo che ha di approcciarsi come avvocato e non solo come professore. Quando gli ho chiesto di darmi una mano a formare una squadra per fare questo convegno, oltre all'amico Angelo, ovviamente mi ha suggerito la persona del dottor Morlini. Il dottor Morlini che a Modena ha più amici di me, credo, come ho appena appreso, sia che siano magistrati, è compagno di corso appunto della Rimondini, della Fabrine e di altri, amico di Angelo Tibaldi e soprattutto è, credo, ci sono alcuni di voi che lo conoscono personalmente perché si è laureato a Modena e quindi ha ancora degli ottimi rapporti a Modena, però non era mai venuto a Modena, quindi è bene che sia venuto oggi, è componente del comitato direttivo della Scuola Superiore della Magistratura, per cui tutti coloro i quali non sono contenti, se sono bravi o no i magistrati, alla fine possono parlare con lui perché è quello che lì forma, se vogliamo, e poi ripeto, ha detto bene la Daniela, Angelo non ha bisogno di presentazioni, è una persona che crede nella mediazione, ci ha dato molto una mano, molti di voi lo conoscono, ma sono tutti, credo, relatori, io spero che sia così anche per questo pomeriggio, che ci daranno una serie di indicazioni importanti su quello che è il nostro lavoro nella quotidianità. Questo è quello che noi ci prefiggiamo di fare con questi convegni di formazione, perché è vero che la formazione è obbligatoria, ma noi cerchiamo, e spero che voi lo appreziate, di fare sempre il meglio per avere dei relatori che ci possano mandare a casa con qualche cosa di concreto da applicare nel nostro sempre più faticoso lavoro. Il dottor Morlini ci parlerà dei profili problematici, chiedo scusa, in tema di negoziazione assistita, Marco Marinaro, profili evolutivi della giurisprudenza in tema di mediazione, cosa che è di enorme, a mio avviso, attualità, e concluderemo con Angelo, ruolo dell'avvocato, opportunità professionali nelle procedure consensuali, profili deontologici, quindi abbiamo inserito anche un punto di deontologia che per chi fa del puro utilitarismo fa sempre comodo e quindi io credo che il pomeriggio di studi possa essere veramente proficuo per tutti noi. Lascio la parola al dottor Morlini, vi ringrazio per essere qui, ringrazio la Camera di Commercio, buon lavoro e buon ascolto a tutti. Bene, buongiorno, so che non è molto originale iniziare con saluti e ringraziamenti e quindi non ho la pretesa di essere originale, però davvero di cuore un ringraziamento agli organizzatori, al Presidente Daniela Dondi per l'invito e all'Avvocato Guglielmo Borelli sempre per l'invito e per l'organizzazione. Un saluto ai correlatori, agli amici Marco Marinaro ed Angelo Santi, a voi tutti che vi giocate un venerdì pomeriggio a parlare di diritto, vabbè che c'è anche qualche credito quindi un minimo di ricompensa, c'è un saluto, un particolare saluto ad almeno tre persone, i miei colleghi di studi fin dai tempi dell'università che vedo, Barbara Aquilini, Beatrice Vaccari e Roberta Bagnoli, quindi è un modo per ritornare a parlare di diritto in una città dove ho passato veramente quattro bellissimi anni universitari. La scala del ragionamento che volevo svolgere con voi oggi, io non vedo lo schermo sopra, sì, vedo quello mio, non vedo quello l'ho, si vede bene come colori, come dimensioni, eccetera. La scala del ragionamento che volevo fare con voi è sostanzialmente questa, una premessa di inquadramento del perché siamo arrivati alla negoziazione e alla mediazione e alle ADR in generali, perché io sono convinto che in diritto come in natura nulla nasce per caso e quindi occorre capire il motivo per il quale siamo arrivati a parlare di questi istituti. Una veloce distinzione sulle due tipologie di negoziazione, una riflessione sulla legittimità costituzionale della negoziazione assistita e poi la seconda parte del ragionamento è quella più tecnico-scientifica, cioè la elencazione delle poche cose sicure da un punto di vista processual civilistico in tema di negoziazione, la elencazione dei molti dubbi che sempre a livello processual civilistico sono stati posti dalla mancata chiarezza con la quale il legislatore ha affrontato alcune norme e la riproposizione di altri dubbi interpretativi che sono i medesimi che già ci avevano affaticato nell'interpretazione della mediazione che entra, come sappiamo, in vigore un po' prima. Iniziamo allora da una premessa, e cioè il DL 132 dice esclusivamente, lo dice addirittura nella rubrica, da questo punto di vista il legislatore gioca a carte scoperte, non c'è nulla di nascosto, che l'intento è quello di deflazionare il contenzioso. Il DL 132 è, ovviamente come tutti sappiamo, la stessa norma che introduce poi anche le modifiche al rito processuale civile, alla materia delle esecuzioni, al fallimento, ed introduce la negoziazione e quella sciagurata e del tutto inapplicata norma in tema di arbitrato volontario. Questo perché? Perché il DL non fa altro che riconosce una realtà sotto gli occhi di tutti. C'è uno studio del Ministero della Giustizia che è uscito una settimana fa, non so se Marco e Angelo lo hanno già visto, il Ministero è tutto trionfante in questo periodo, perché pare che al 30 di aprile del 2016 siamo scesi sotto la soglia psicologica delle 4 milioni di pendenze di cause civili, che indubbiamente è un risultato del tutto importante e soddisfacente se lo si paragona al fatto che a fine 2009, cioè nel momento di massimo consolidamento dell'arretrato, si era arrivati a quasi 6 milioni di cause civili pendenti, 5,9 milioni. Quindi il fatto che dal 2009 in poi le pendenze siano sempre diminuite è certamente un dato consolante, anche se io vi garantisco che quando ci tocca di fare convegni di formazione a livello internazionale e parlare della situazione delle pendenze civili in Italia, tutte le volte che noi diciamo che io dico 4-5 milioni di cause civili pendenti, non ci crede nessuno e tutti pensano che sia un errore nella traduzione, perché non ci si rende conto a livello comunitario di questi numeri. numeri quindi che sono in diminuzione ma che sono ancora altissimi, come anche il numero di nuove cause all'anno. Siamo scesi a 4 milioni di nuove cause all'anno, erano 5 milioni di cause nuove all'anno 4-5 anni fa, però sono ancora numeri impressionanti. Siamo, come sappiamo dallo studio del SPEJ, il secondo paese in Europa per tasso di litigiosità, anche se nessuno dice che siamo anche il secondo per tasso di produttività della magistratura. E poi c'era quello studio che veniva agli onori delle cronache, perché spesso citato dal primo Presidente della Corte di Cassazione all'inaugurazione dell'anno giudiziario, lo studio della Banca Mondiale, circa la classifica dell'efficienza del processo civile, noi l'ultima volta che lo studio era stato citato eravamo al 155esimo posto dietro a dei paesi come la Sierra Leone, il Malawi, l'Iraq e la Bolivia, ciò che forse per un verso denota la poca credibilità dello studio, perché credo che francamente nessuno di noi preferirebbe fare una causa a Baghdad piuttosto che al Tribunale di Modena, e purtuttavia questi dati comprovano come la situazione sia molto delicata. Poi c'è uno studio della Banca d'Italia che dice che l'inefficienza del processo civile costa un punto di PIL all'anno, anche qui non ho mai capito bene perché 1 e non 1,5 o 0,5. Il dato invece sicuro, incontrovertibile, è quello delle cosiddette cause PINTO, che sono in aumento costante, in aumento costante direi geometrico, ma soprattutto la cosa secondo me più imbarazzante, che da un recente studio del Digistat fatto dal Presidente Mario Barbuto qualche mese fa emerge che le cause PINTO che sono state promosse sono solamente una piccola percentuale delle cause potenzialmente promovibili, perché secondo i parametri della giurisprudenza nazionale che si consolida sulla base della giurisprudenza comunitaria, la causa è irragionevole e perdurata quando sfora i tre anni in primo grado, i due anni in appello, l'anno in Cassazione o i sei anni complessivamente. Sulla base di questi parametri, nei 4 milioni di cause pendenti, fino all'anno scorso c'erano 835 mila cause potenzialmente da legge PINTO. Oggi sono qualcosa di meno, ma sono numeri appunto molto forti. Qui vorrei addirittura tralasciare perché si narra e non so più qual è il confine tra la realtà e la fantasia di un procedimento alla Corte d'Appello di Genova per PINTO TER, e cioè una causa in cui si lamenta la irragionevole durata di una causa, in cui si lamenta la irragionevole durata di una causa, in cui si lamentava la irragionevole durata di una causa. e quindi se è vero siamo davvero al confine tra il ridicolo ed il grottesco. Le condanne, questo è un altro dato sicuro, sono in aumento esponenziale e Dio solo sa quanti problemi sarebbero risolti se i soldi che si pagano per i risarcimento di legge PINTO fossero messi, fossero iniettati nel sistema giustizia per cancellieri, magistrati o anche mezzi di utilizzo quotidiano. E poi abbiamo quest'altro fenomeno tutto italiano delle sentenze di ottemperanza, perché lo Stato si dà una legge per adempiere tra l'altro una prescrizione comunitaria, si condanna per irragionevole durata del processo e poi non paga e quindi occorre convenire in giudizio lo Stato con il giudizio di ottemperanza. Abbiamo un bel gruppo di condanne della CEDU per violazione dell'articolo 6 e quindi per intenderci siamo allo stesso livello, anzi numericamente forse superiore rispetto alla Turchia per la violazione dei diritti umani dei detenuti nelle carceri di Istanbul e noi abbiamo invece la violazione del diritto alla ragionevole durata del processo civile. E da ultimo questo avvertimento del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa che dice che la situazione della giustizia civile costituisce un grave pericolo per il rispetto dello Stato di diritto. Ecco, se questa è la situazione, e questa è la situazione, voi capite che la situazione si è verificata anche se negli ultimi tempi il legislatore ha pigiato sull'acceleratore delle riforme in modo confusionario, un po' cialtrone, indubbiamente approssimativo, ma indubbiamente le riforme processuali, direi per usare un numero e una data, a partire dalla legge 353 del 90 del giudice unico in vigore dal 95, quindi negli ultimi vent'anni le riforme processuali sono state veramente molteplici e profonde, perché la monocraticità, l'aumento delle competenze della magistratura onorario, lo snellimento del rito, la introduzione delle preclusioni, la motivazione che tutte le volte si sceglie un aggettivo diverso nel 132 per dire che deve essere sobria, limitata, eccetera, i danni punitivi dal 96 terzo comma in giù, l'aumento del contributo unificato per scoraggiare il contenzioso, e quindi per un verso riforme processuali intense, per altro verso anche riforme ordinamentali, penso alla riforma sia della geografia giudiziaria, sia della professione forense, avviate tra molte incertezze, ma comunque già sviluppate, e quindi questa situazione si è verificata nonostante queste riforme di natura processuale ed ordinamentale. E allora cosa voglio sostenere? Voglio sostenere quello che diceva anche l'Avvocato Borelli all'inizio, e cioè poiché in tempi di crisi economica è velleitario, non dico che è ingiusto, ma è velleitario pensare a un aumento della disponibilità economica, quindi a un aumento dell'organico dei magistrati, a un aumento dell'organico dei cancellieri, a un ripensamento delle strutture obsolete con le quali ci troviamo a lavorare, poiché, vi dicevo, questo è velleitario, l'unica possibilità per mantenere questo processo, cioè per andare avanti su questo sistema, il sistema vuole dire doppio grado di giudizio, più corti di cassazione, motivazione, e quindi per non arrivare a un sistema diverso, al sistema o del grado unico, o della giuria senza motivazione, o della non tutela di determinati diritti, per non arrivare a questa tipologia di riforme, l'unica speranza, ambizione, è che il sistema ritrovi efficienza. E quindi se questo è l'obiettivo, la de-giurisdizionalizzazione, il termine che non veniva all'Avvocato prima per i bicchieri di Lambrusco di oggi, la de-giurisdizionalizzazione non è un'opzione di valore, è una necessità. E il funzionamento delle ADR diventa l'unico strumento per poter dire il sistema di de-giurisdizionalizzazione consente di mantenere in piedi, per una quota minore, diversa del contenzioso, questo sistema di risoluzione delle controversie, perché le altre vengono definite in sede di ADR. Se quindi l'intento è quello di deflazionare, a mio modo di vedere, la valutazione della riforma sulla negoziazione non deve essere fatta con un giudizio campanilistico, mi piace, non mi piace, sono più per la mediazione, sono più per la negoziazione. Ma il giudizio deve essere fatto sotto l'angolo visuale del se funziona o non funziona l'obiettivo che il legislatore si è dato. E questa volta il legislatore si è dato un obiettivo meno roboante di quello che si era dato in termini di mediazione, perché parla di 60.000 cause annue definite con negoziazione. Mi ricordo che sulla negoziazione e sulla mediazione si erano sparati numeri in libertà, quindi il 20% di tutto il contenzioso, più non so quale percentuale di definizione delle cause e così via. Il giudizio della dottrina da questo punto di vista è drastico, perché dal professor Bove che ingaggiando una specie di duetto su, erano cos'era, se non ricordo male i primi due numeri di guida al diritto dell'anno scorso, diceva in un articolo, Bove diceva per favore basta, cioè finiva questo articolo di commento all'ultima riforma processual civilistica e poi il professor Verde la settimana dopo invocava la pietà per tutte le riforme processuali, Proto Pisani parlava di indignazione, il professor Consolo, Claudio Consolo, di promesse avventuristiche, chiarloni di storytelling in relazione al fatto che ci sarebbe l'ambizione di definire una parte del contenzioso, Borghesi, quindi Modena, bandiera bianca, e d'osservazioni di questo genere. È anche vero che la dottrina è sempre pessimista e quindi tendenzialmente ogni commentatore parla male della riforma anche per avere modo di scrivere e di dire qualche cosa. Il quadro è questo e questo spiega perché nasce la negoziazione sulla falsa riga della mediazione. La negoziazione si divide in due tipologie, la negoziazione assesita facoltativa, l'articolo 2, modellata, ma questo è sicuramente maestro molto migliore di me, Marco Marinaro, circa è la normativa francese del 2010 o il diritto collaborativo nordamericano secondo altri, è la procedimentalizzazione di quello che tutto sommato qualunque avvocato ragionevole e di buonsenso faceva in passato, anche prima, anche in assenza di negoziazione. In questo caso però la trattativa andrebbe fatta secondo delle forme, quindi in forma scritta appena di nullità, chissà perché, le parti convengono di cooperare in buona fede con lealtà per cercare di risolvere in via amichevole e così via. La necessità di informare il cliente della possibilità di ricorrere alla procedura, il termine deve essere da uno a tre mesi prorogabile una volta sola, non riguarda i diritti indisponibili o la materia di lavoro, poi c'è la parte della famiglia che riguarda il matrimonale, gli articoli 6 e gli articoli 12 che io non tratto nella riflessione di oggi. Ma comunque sono tutte norme che sono di facile lettura nell'articolo 2. La negoziazione assistita obbligatoria invece è, in senso tecnico, una condizione di procedibilità, ma oramai siamo tutti più abituati, dopo il decreto legislativo 28 sulla mediazione, a parlare di condizioni di procedibilità, quindi non ci spaventa più la categoria giuridica. È condizione di procedibilità quando? Qui per capire quando ci vuole una specie di sudoku, perché bisogna incrociare diversi dati, tecnicamente in tre situazioni. La prima, risarcimento del danno da circolazione di veicoli enatanti. A Modena inatanti forse ce ne sono pochi, però comunque questa è la categoria giuridica. La seconda, in tutti i casi diversi dalla mediazione, che quindi non sono già ricompresi nella mediazione, per il pagamento a qualunque titolo, quindi responsabilità contrattuale o extracontrattuale, di somme fino a 50.000 euro. Avrebbe potuto essere un po' di più o un po' di meno, il legislatore ha scelto 50.000 euro. Però con esclusione dei contratti tra i consumatori e i professionisti. Questo perché? Perché c'è una direttiva comunitaria che sarebbe stata direttamente violata laddove si fosse indicata anche questa materia e con esclusione anche delle controversie in cui la parte può stare in giudizio personalmente. Se proprio volessimo spaccare il pelo io mi chiedo se l'esclusione vale solo nei casi dell'81, per intenderci giudice di pace, con i 1.000 euro, oppure personalmente si intende anche l'avvocato improprio. Non so darvi una risposta e non mi risulta che ci sia stato finora un contenzioso sul punto. Poi c'è la terza categoria, l'articolo 1 della finanziaria del 2015, tecnicamente il comma 249 della legge 190-2014. Povero paese che si fonda sui commi 249. La condizione di procedibilità diventa anche per il trasporto e il subtrasporto, che peraltro, se ci riflettete un attimo, fino a 50.000 euro era già ricompreso anche nella materia precedente. Quindi tecnicamente sarebbe per il trasporto e il subtrasporto per contratti o responsabilità superiore a 50.000 euro. La condizione di procedibilità, anche questo l'abbiamo imparato sicuramente, è avverata se c'è il rifiuto o la mancata adesione entro 30 giorni, però in questo caso, ma ci torneremo dopo, ci si espone a responsabilità 96 e 642,1. L'articolo 4, questa è una piccola differenza di sistema rispetto alla mediazione, perché la mancata adesione o rifiuto della negoziazione non espone la parte che rifiuta alla valutazione a sé contraria ex articolo 116 del comportamento, come invece in caso di mediazione. Quindi il rifiuto alla mediazione espone a una potenziale valutazione ex articolo 116 del comportamento, il rifiuto della negoziazione non espone a questo. Guardate che questa è una conseguenza che io evidenzio per il paragone, per il fatto che dopo si parla di mediazione, ma non c'è alcuna logica in questa distinzione. Non è che avrebbe potuto essere il contrario, cioè non nella mediazione sì nella negoziazione, o entrambe sì o entrambe no. Questo è la conseguenza di una legislazione caotica che non si coordina. L'accordo che gli avvocati certificano deve essere conforme a norme imperative e all'ordine pubblico, chissà perché non anche al buon costume, ma questo invece è come nel caso di mediazione, costituisce un titolo esecutivo e questo può essere interessante, che va trascritto nel precetto con modifica dell'articolo 480. Poi c'è il profilo sul quale la dottrina all'inizio ha dato un'attenzione secondo me eccessiva rispetto alla norma, cioè le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite non possono essere utilizzate nell'eventuale giudizio. C'è l'articolo 9 che richiama un po' tutta la normativa in tema di mediazione. Ecco, io voglio però che sia chiaro che le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite non possono essere acquisite nel giudizio con riferimento alle concessioni, ma non certo con riferimento al fatto storico dedotto. Cioè, voglio dire, non è che come purtroppo è già capitato, c'è l'eccezione che dice ah ma in negoziazione mi hai chiesto il risarcimento del danno per il tal sinistro cioè stradale, a questo punto tu non puoi chiedere di provare nel giudizio di merito davanti al giudice l'esistenza del sinistro stradale. Ci mancherebbe altro. Il fatto storico posto a fondamento della richiesta non è ovviamente tra quelli rientranti nell'articolo 9. Quello che non puoi chiedere è se c'è stata una concessione ai fini conciliativi di una parte che ha detto, che ne so, sono disposto a conciliare la causa ad una certa somma. Come nella mediazione obbligatoria la normativa non si applica ai procedimenti urgenti e cautelari, ai procedimenti per ingiunzione. Qui c'è una differenza. Occhio perché può essere questa interessante perché l'abitudine potrebbe portarci a fare un errore di prospettiva. Mentre della mediazione dopo l'instaurazione del giudizio di opposizione si va in mediazione e da lì la grande diatriba se la condizione di possibilità è a carico dell'opponente o dell'opposto con la cassazione che dice una cosa e la giurisprudenza che ne pensa un'altra. Nel caso di negoziazione non è prevista la negoziazione nemmeno dopo l'opposizione. Non è prevista nel 696 bis anche se a mio avviso sbagliando il Tribunale di Roma reputa che non è prevista per il 696 bis ma è prevista poi nel successivo grado ed eventuale grado di merito. Non è dovuto il compenso all'avvocato per chi si trova nelle condizioni di patrocino a spese dello Stato. Questa è una norma patentemente incostituzionale perché reintroduce il gratuito patrocinio. Questo non è un patrocino a spese dello Stato, è un patrocino a spese dell'avvocato. Quindi è gratuito patrocinio che non è a mio modo di vedere rispettoso dei parametri costituzionali. Ci sono gli effetti interruttivi sulla prescrizione e sulla decadenza che già vedevamo in tema di mediazione. Come in tema di mediazione l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto o rilevata d'ufficio nella prima udienza. Come nella mediazione il giudice che verifica la mancata presentazione della negoziazione, poiché è una condizione di procedibilità, non estingue, non sospende ma dà il termine per instaurare o proseguire la negoziazione. Molto velocemente, perché poi mi interessa di più la seconda parte, la parte processual civilistica, compatibilità con l'articolo 24 della Costituzione. Qui era un tema inizialmente caldo, oggi completamente svelenito. Perché? Perché, anche se questo può non piacere all'avvocato Borelli, in realtà l'avvocatura a livello nazionale è del tutto favorevole alla negoziazione assistita. Anzi, la negoziazione è stata un patto siglato tra la avvocatura, per avvocatura intendo i vertici rappresentativi, chiaramente, e il potere politico per fermare la mediazione, che invece non è mai stata digerita dalla avvocatura, e per coinvolgere la avvocatura, che è il protagonista della negoziazione, perché negoziano le parti con la presenza di avvocati in questa strana ADR. E quindi, mentre la mediazione è stata oggetto di ripetute censure, tentativi di censure di legittimità costituzionale, sulla negoziazione questo non è accaduto. In realtà, io credo, so che Marco ha una posizione un po' diversa dalla mia, io credo che se la eccezione di legittimità costituzionale fosse formulata, non troverebbe accoglimento. Perché? Innanzitutto, la compatibilità con il 24 è data dal fatto che tutti i parametri di scrutinio della cosiddetta giurisdizione condizionata sono rispettati. Perché è possibile ottenere i procedimenti, i provvedimenti urgenti, perché non si applica ad alcune tipologie di provvedimenti, perché ha una durata limitata nel tempo e perché ci sono dei benefici fiscali. Questi sono i parametri con i quali la Corte Costituzionale in passato ha rigettato le eccezioni di legittimità che sono rispettati nella negoziazione. Infatti, come vi dicevo, tutte le condizioni di procedibilità in tema di agrario, licenziamenti e lavoro sono sempre stati rigettati dalla Corte Costituzionale. E, a mio modo di vedere, è frutto di un manifesto errore di prospettiva la argomentazione di chi dice che c'è una Corte Costituzionale relativamente recente, la 98-2014, che riguarda il processo tributario e che ha dichiarato la incostituzionalità del 17 bis relativo alla condizione di proponibilità del processo tributario. Proprio lì la differenza. La Corte ha dichiarato illegittimo quell'articolo in quanto condizione di proponibilità, non di procedibilità, e in quanto condizione che poteva essere eccepita in ogni Stato e grado. Dicendo che laddove la condizione fosse stata di procedibilità e la possibilità di sollevarla fosse stata temporalmente limitata, sarebbe stata legittima. E quindi, lungi dall'essere un provvedimento di segno contrario, questa sentenza della Corte Costituzionale acclara la legittimità della negoziazione, perché indica quei due parametri che sono tipici della negoziazione. La procedibilità e non già la proponibilità è il limite ad eccepirla. La stessa Corte di Giustizia ha, con sentenze vecchie ma mai disattese, chiarito quali sono i parametri di legittimità della giurisdizione condizionata, e sono più o meno quelli che vi dicevo prima per la Corte Costituzionale, sono anche questi tutti rispettati. Il limitato ritardo è per noi tre mesi, visti i tempi della giustizia civile di prima, lo sono sicuramente, la sospensione della prescrizione che c'è, i costi non ingenti e così via. Per non dire che c'è poi di fatto un sostanziale favor per la legittimità delle condizioni di procedibilità, come comprovato dal fatto che la Corte Costituzionale, che ha dichiarato illegittima la mediazione, lo ha fatto non per violazione dell'articolo 24, ma per eccesso di delega. E quindi ha di fatto sancito la legittimità dell'istituto laddove è supportato da una delega. Può apparire paradossale, ma probabilmente la strada maestra per un'eccezione di legittimità costituzionale sarebbe stato il 77. Perché la mancanza dei requisiti di necessità ed urgenza è comprovata dal fatto che alcune clausole del decreto legge hanno un'entrata in vigore differita. E da un punto di vista teorico mi pare difficile sostenere la necessità e urgenza di un provvedimento che quando prendi differisci con riferimento all'entrata in vigore. E attenzione, la Corte Costituzionale ha ripetutamente detto, e ius receptum questo, che il giudice di costituzionalità deve valutare i requisiti del 77 anche dopo la conversione. Qui c'è stato un mutamento di giurisprudenza quantomeno da una dozzina di anni, perché fino alla fine del secolo scorso, diciamo, fino all'inizio degli anni 2000, la Corte diceva che una volta convertita la norma sfuggiva alla consulta la possibilità di sindacare i requisiti di necessità ed urgenza. Oggi la Corte Costituzionale, in modo assolutamente pacifico, dice che i requisiti sono sindacabili. Mi rendo conto che può apparire un grimaldello, ma secondo me, paradossalmente, è più lineare la censura di costituzionalità del 77 che del 24. Veniamo alla seconda parte della riflessione. Questa è molto breve, perché le certezze sono veramente poche. Io ne vedo tre. La prima, come vi dicevo prima, la condizione di possibilità non è richiesta per tutta la fase dell'opposizione. Quindi, anche dopo la concessione dei provvedimenti 648 e 649, non si va in negoziazione e quindi ci risparmiamo il problema di capire quello che bisogna capire in mediazione, se spetta all'opponente o all'opposto andare in mediazione. Cioè, se viene caducato in mancanza l'opposizione o l'ingiunzione monitoria. Due parimenti. Non c'è il problema della derogabilità o meno della competenza dell'organismo mediatorio, perché qui non c'è nessuna competenza, sono i due avvocati, da un punto di vista processuale, sono i due avvocati che negoziano e similmente non sussistono le problematiche in tema di mediazione delegata, perché non esiste la negoziazione delegata. Qui ci fermiamo con le cose facili. Cominciamo con le cose difficili, cioè i dubbi che sono molti. Il primo, corrispondenza tra i temi indicati nella convenzione, è il petitum della controversia. Perché è un problema? Perché la norma dice che occorre indicare nella richiesta di negoziazione l'oggetto della controversia. Quindi qualcosa di molto di meno del 163 del codice di procedura civile. E quindi quando io ho codificato correttamente in negoziazione il tema che vado a sviluppare in contenzioso. Banalmente, se io chiedo la risoluzione del contratto con restituzione del prezzo e in sede di negoziazione, posso chiedere in contenzioso risoluzione del contratto, risoluzione del prezzo e risarcimento del danno? Anche se il risarcimento del danno non l'avevo indicato in negoziazione? O è una domanda che fuoriesce dall'oggetto della controversia così come dedotto in negoziazione? Qui la risposta che io mi sento di suggerire è che occorre una mera prevedibilità logica tra l'oggetto codificato in negoziazione e quello di merito. Quindi non c'è, a mio modo di vedere, la necessità dell'indicazione della enucleazione precisa del petitum così come se fosse un atto introduttivo. Occorre quindi, secondo me, è sufficiente, secondo me, la indicazione dell'oggetto del contenzioso. Due, ne parlavamo oggi a pranzo tra un bicchiere e l'altro di Lombrusco, cioè la direzione generale del Ministero della Giustizia dice, con un provvedimento dell'anno scorso, che non è applicabile la sospensione feriale dei termini alla negoziazione con riferimento alla materia della famiglia di cui è all'articolo 6. A parte che vale quello che vale, secondo me, l'opinione del Ministero sul punto, ma comunque nulla si dice sulla negoziazione diciamo civile, non dell'articolo 6. Per me, io credo che nella negoziazione ordinaria la sospensione invece si applichi. Se non altro, ma non tanto perché manca la interpretazione del Ministero, perché manca in realtà una norma come l'articolo 6,2 in materia di mediazione. Quindi, Ubilex, Dixit, Voluit, eccetera. E tre, anche questo è davvero bizzarro, perché qui il legislatore... e questo è veramente un sudoku, perché la procedura di negoziazione dice il capo 2 e la rubrica del 2 e del 6 può essere assita da uno o più avvocati. Poi invece nell'articolo 6 si dice che ci vuole un avvocato per parte, nel comma 1 e nel comma 3, però nell'articolo 5 sparisce un avvocato per parte. E allora quanti avvocati ci vogliono in negoziazione? Io credo... è stato sostenuto di tutto. Per alcuni si dice che il medesimo avvocato può assistere tutti, le due parti o le più parti in mediazione, in negoziazione, salvo poi se si va in contenzioso, non assiste nessuno appena di vulnerare il codice deontologico. E mi risulta che in alcuni contratti, soprattutto quelli imposti dal contraente forte, è previsto questo. Cioè si dice che nel caso di negoziazione tu ti impegni ad avere l'avvocato che ti indico io. Dopodiché, se poi si va in contenzioso, è ovvio che quello non può esserci. Altri dicono no, la norma è caotica ma vuole dire che ci vuole almeno un avvocato per parte, possono essere più di uno e ci mancherebbe altro che uno non possa stipendiare due avvocati che lo difendono. Probabilmente la risposta tecnicamente corretta è quella mediana, cioè basata sull'interpretazione letterale. Cioè nel contenzioso civile di cui all'articolo 2 ne basta uno per entrambi. Nel contenzioso matrimoniale del 6 ce ne vuole uno per parte. Perché? Perché lo dice la legge, perché forse il matrimoniale è una materia più sensibile. Ho perplessità, per la verità, perché allora bisognerebbe distinguere se c'è o non c'è la tutela di interessi di terzi, dei figli e così via. Ma questa distinzione non è possibile. Però a mio modo di vedere la soluzione tecnicamente più corretta è questa. Quarto punto, questo per me è veramente molto particolare. Il 4,1 dice che nel caso di mancata risposta all'invito, le parti, il giudice non deve ma può valutare il comportamento ai sensi dell'articolo 96 e capisco perché. Cioè vuole dire che se uno non negozia, si rifiuta di negoziare, va in causa, sostiene una tesi peregrina, il giudice può condannarlo al pagamento del 96 terzo comma, rafforzando con la mancata partecipazione alla negazione il giudizio di disvalore sulla qualità della difesa. Poi però dice anche, può il giudice valutare ex articolo 642 comma 1. Occhio, comma 1 non comma 2. Quindi mentre il comma 2 sarebbe semplice, cioè io do la provvisoria esecuzione dopo l'opposizione perché ricostruisco la mancata partecipazione alla negoziazione come conferma della debolezza delle difese, il comma 1 è l'ingiunzione provvisoriamente esecutiva. E quindi che vuol dire? Vuole dire, io so che voi vi scandalizzate e fate bene a scandalizzarvi, ma la soluzione è una sola. Se io ho un verbale negativo di negoziazione, con quel verbale io posso, ma non deve il giudice, ottenere un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo. Occhio, comma 1. Quindi non ho nemmeno bisogno della fattura o della registrazione contabile. Quindi il verbale negativo di negoziazione corrisponde all'assegno o alla cambiale. Con l'unica differenza che l'assegno e la cambiale onera il giudice di provvedere. In questo caso c'è una mera possibilità, ma l'unica interpretazione letterale che a me francamente dà un po' da fare, però è questa. Poi c'è una materia ancora più complicata, cerco di andare veloce perché sto già sforando. Nel risarcimento del danno si pone il problema della compatibilità con il 145 del codice delle assicurazioni, cioè con lo spazio dei liberandi. E allora che facciamo? Abbiamo due condizioni, una di proponibilità e una di procedibilità. Allora, alcuni dicono la nuova condizione di procedibilità, la negoziazione abroga e sostituisce il 145. Non è così, perché non è scritto da nessuna parte. Altri dicono si applica l'articolo 3,5 della negoziazione e quindi le devi esplicitare entrambi, ma le puoi fare contemporanea. Perché? Perché te lo dice il 3,5. Quindi l'invito alla stipulazione della convenzione di negoziazione vale anche come concessione dello spazio dei liberandi. Questa tra l'altro è la tesi di autorevoli commentatori, uno per tutti, Michele Ruvolo, forse il magistrato italiano, più addentro a queste problematiche. Io personalmente non sono convintissimo, reputo che forse le due condizioni vadano esplicitate in sequenza. Ma perché? Perché il 145 non è un procedimento di conciliazione e mediazione, come dice l'articolo 3, ma è una condizione di proponibilità. Quindi non si applica l'articolo 3 e quindi i principi generali dicono che hai due condizioni una dopo l'altra. L'articolo 3 e quindi la possibilità di applicare contestualmente i due termini si ha invece nelle altre condizioni di procedibilità o di proponibilità. Lo spazio dei liberandi del 145 è diverso concettualmente e quindi si ha nella mediazione concordata, nell'agrario e nelle controversie tra consumatori ed operatori. Inoltre, l'espletamento della negoziazione facoltativa, occhio, facoltativa, quindi io, è l'articolo 2, non l'articolo 3, non esonera la parte dalla celebrazione della mediazione obbligatoria. Cioè, non sono io che mi scelgo la condizione di procedibilità, io ce ne posso aggiungere una, ma se la legge impone la mediazione obbligatoria, io non la posso sostituire con la negoziazione facoltativa. Questa lo dice anche il Tribunale di Verona, ma secondo me era scontato, con l'ottimo collega Vaccari. Ultimo punto che volevo trattare con voi, i problemi che non nascono con la negoziazione, ma che vengono replicati in negoziazione e che già c'erano con la mediazione. Solito problema storico, il convenuto che spiega domanda riconvenzionale, il terzo che propone una propria domanda, l'attore, il reconvenzio, reconvenzionis. Debbono sottostare la condizione di procedibilità? Allora, visto che siamo a Modena citando Vasco Rossi, c'è chi dice no, quindi alcuni dicono di no, altri dicono di sì, come spesso capita, la tesi forse tecnicamente più corretta, e anche quella più difficile, e quella mediana, occorrerebbe vedere, così come fa la Cassazione nell'agrario, dove è molto simile perché c'è la condizione di proponibilità della riconvenzionale, se la riconvenzionale è cosiddetta inedita, cioè amplia la materia del contendere o no, banalmente, se io chiedo la risoluzione del contratto per colpa del convenuto, e il convenuto in via riconvenzionale mi chiede la risoluzione del contratto per colpa dell'attore, direi che la riconvenzionale non è inedita, perché è la medesima materia del contendere, quindi io penso che non ci voglia la negoziazione sulla riconvenzionale, ma se io convenuto deduco un controcredito in compensazione, magari a maggior valore, introduco un nuovo tema probandum, e per quello, a mio modo di vedere, ci vuole la negoziazione, così come la mediazione. Cosa accade nei procedimenti oggettivamente complessi? Quindi più domande, e solo per alcuni ho fatto la negoziazione, per alcuni il giudice rinvia l'intero processo, per altri il giudice separa, e va avanti con il processo negoziato, e manda in negoziazione con il processo non negoziato. Seconda tesi, apparentemente più, è complicata, che io non seguirei personalmente, ma tecnicamente è più corretta. Cosa succede nel litis consorzio necessario, se la negoziazione è sperata solo nei confronti di alcuni litis consorti? Beh, questo mi pare facile. Qui la condizione di possibilità non è rispettata, perché deve essere vada verso tutti i litis consorti necessari. Come si concilia la negoziazione con i cautelari conservativi sequestro, dove è necessariamente previsto l'inizio del giudizio? È un problema, perché io debbo necessariamente iniziare il giudizio di merito, però dovrei fare anche la negoziazione, ma se faccio la negoziazione non rispetto i termini per iniziare il giudizio di merito. Se inizio il giudizio di merito mi espongo all'eccezione di non avere fatto la negoziazione. Allora, per alcuni il termine di 60 giorni rimane sospeso in analogia con 669 OXIE, stesi a mio modo di vedere insostenibile, perché è una materia dettata per il rapporto di lavoro pubblico, che non può essere applicata analogicamente. Per altri, è quello che faranno tutti, bisogna instaurare il giudizio, magari con una citazione lunga, e poi dopo la citazione nelle more fai la negoziazione o se vuoi non la fai neanche, aspetti eventualmente l'eccezione. Io ero affezionato, cioè altri ancora sarei io, ma non mi ha seguito nessuno, quindi io ero dell'idea che si poteva applicare analogicamente la normativa dettata per i cautelari anticipatori e non fare nulla. Però è una sciocchezza, perché non ho visto che nessuno l'ha mai presa seriamente. Cosa succede nel caso di procedura che nasce con ricorso? Io, giudice, posso sin dal ricorso dire guarda che non hai fatto la negoziazione o la mediazione? E qui c'è proprio un provvedimento del Tribunale di Modena, estensore Masoni se non ricordo male, che diceva sì, lo posso rilevare d'ufficio, io personalmente penso di no, e quindi reputo più condivisivo, non volevo fare una polemica, non volevo fare una polemica. Io personalmente sono più dell'idea di Rosario Giordano, raffinata, processuale civilista del Massimario Michele Rubolo, che dicono che occorre comunque il rispetto del contraddittorio e non lo può rilevare d'ufficio, anche perché ragionevolmente l'avvocato normale ti fa il ricorso senza negoziazione e poi va in negoziazione nell'emore tra il decreto di fissazione e la celebrazione dell'udienza. Questa era l'ultima. Nel caso di procedimento sommario di cognizione va esperita la negoziazione assistita? Beh, io non ho il minimo dubbio, la risposta è sì, perché il sommario di cognizione è uno dei tre modi, delle tre modalità di introdurre il giudizio. Io vi saluto con una raccolta di aforismi che sono la mia passione unitamente a quella calcistica e che mi consentono di vivere non solo pensando al lavoro ma anche ad altro. Quando ho letto per la prima volta il testo di legge con tutti i problemi che vi ho rassegnato a livello interpretativo mi è venuta in mente una frase di un anonimo che era molto bello. Perché essere solo difficili quando si può essere incomprensibili? Ho pensato che la spiegazione fosse perché il legislatore è un dilettante, però ho anche pensato che l'arca di Noè è stata costruita da dilettanti, il Titanic da professionisti. E quindi forse ci va anche bene che l'abbia costruito un legislatore dilettante. Quanto alla esplicitazione, reiterazione di alcuni concetti, mi ricordo in particolare il 615 che era nella medesima norma, si può fare l'opposizione solo parziale, cioè banalità che tutti sapevano, mi veniva in mente il grandissimo Oscar Wilde. a volte è meglio tacere e sembrare stupidi piuttosto che aprire bocca e togliere ogni dubbio. Invece, dicendo una cosa più seria, io so che con Marco, con Angelo, sfondo una porta aperta, però ricordatevi che anche Calamandrei diceva l'opera più preziosa degli avvocati civilisti è quella che essi svolgono prima del processo, come la negoziazione, stroncando con saggi consigli di transazioni di TG all'inizio e facendo tutto il possibile affinché essi non raggiungano quel parossismo morboso che rende indispensabile il ricovero nella clinica giudiziaria. L'avvocato Probo deve essere più che il clinico l'igienista della vita giudiziaria in quanto presta giornaliera opera di disinfezione della litigiosità. E quindi, senza la negoziazione, anche Calamandrei diceva che bisognava cercare di evitare il contenzione. A questo punto credo di dovervi salutare veramente dicendo che spero di esservi stato utile, anzi sono sicuro di essere stato utile perché sono un ottimista. Meglio essere ottimisti ed avere torto che essere pessimisti ed avere ragione, anche se il mio amico Stefano Brusati mi risponde con Mark Twain che i pessimisti in realtà sono gli ottimisti meglio informati. Io vi dico, sono convinto di avere detto cose utili, se non ce l'ho fatta va bene lo stesso, ho provato, ho fallito, non importa, riproverò, fallirò meglio quando l'Avvocato Borelli mi chiamerà l'anno prossimo perché dagli errori del passato si può imparare a farli meglio. Voi direte a ragione che ho poche idee ma confuse, come diceva Flaiano, e comunque questa è davvero l'ultima, meglio avere poche idee ma confuse, che il contrario, quello che è stato scolpito dall'immortale Oscar Wilde, ci sono persone che sanno tutto e purtroppo è tutto quello che sanno. Grazie. Bene. Cosa dire dopo una relazione come quella del dottor Morlini? Credo poco. Ecco, non so, molto in generale mi viene da invitarvi a una riflessione che facevo mentre parlava. Tutte le volte che parliamo di procedura civile, ne abbiamo fatto lo scorso anno con altri importanti relatori che ricorderete, Francesco Paolo Luiso, Pasquale Luiso era il toro di Sora, scusami, visto che parliamo di... Oppure Franco De Stefano. Ci troviamo stranamente, all'inizio sia De Stefano che Marinaro non sono proprio giudici che stanno diciamo in primissima battuta, in primo grado dove ci sono problematiche ma uno in Cassazione e uno alla scuola della magistratura eppure ci continuano a parlare di quelli che sono gli impietosi numeri contro i quali noi ci dobbiamo trovare tutti i giorni a lottare e che dobbiamo fronteggiare. E secondo me non è casuale. E la seconda cosa purtroppo è che troppo spesso sempre il legislatore della procedura civile è un legislatore che fa cose disorganiche. Non dico cose sbagliate perché non ho la presunzione di potervi dire se sono cose giuste o sono cose sbagliate. L'applicazione poi della procedura muta. Pietro Calamandrei parlava cent'anni fa quando tutto era diverso da oggi eppure diceva delle cose attuali ma le diceva in modo completamente diverso e per problemi completamente diversi sono tornate ora attuali per tutti altri motivi strutturali che sono l'enorme numero di cause l'enorme numero di avvocati e quant'altro. Però fatalità tutte le volte parliamo di una disorganicità del processo civile che ci mette sempre più tutti i giorni in difficoltà. Credo che il dottor Morlini invece ci abbia dato sulla negoziazione assistita un'ottima visione d'insieme anche se rapida perché non potevamo stare qua a parlare nelle sette ore cosa che peraltro avrebbe annoiato tutti non poco nonostante la qualità del relatore. Vi debbo dire che questo poi fate nella valutazione che volete il 26 maggio prossimo il Consiglio Nazionale Forense ha organizzato un convegno la negoziazione assistita nel contesto degli strumenti stragiudiziali opportunità e strategie per l'avvocato nel terzo millennio. Ha ragione il dottor Morlini l'avvocatura un po' ha sposato il CN e con il suo organo più rappresentativo il CNF questo discorso della negoziazione assistita credo che qua dentro molti di noi non sarebbero d'accordo però la dobbiamo vedere come un'opportunità anche perché è una di quelle cose sulle quali al Ministero forse a me credono molto. Fine del mio commento quasi inutile la parola Marco Marinaro e non Morinaro come purtroppo qualcuno per sbaglio ha scritto ma non cambia molto ripeto che Marco Marinaro chi non lo conosceva personalmente oggi l'ha potuto conoscere e lo conoscerà tra poco ma sicuramente chi legge solo 24 ore credo quasi tutti noi lo ha letto ripetutamente e credo anche apprezzato per la sua ancora una volta lo dico capacità di essere sia da un lato professore ma quello che conta a mio avviso anche e soprattutto forse avvocato a lui la parola sui profili evolutivi della giurisprudenza in tema di mediazione vedo che qua sono presenti molti dei mediatori facenti parte del nostro organismo e quindi li guarderò attentamente negli occhi per vedere stanno attento ad ascoltarti Marco che sicuramente hanno qualcosa da imparare a te la parola Buon pomeriggio innanzitutto ringrazio per l'invito l'ordine Guiglielmo insomma molto affettuoso è un piacere essere qui con voi e non è diciamo di circostanza quello che vi sto dicendo è difficile iniziare a parlare dopo il giudice Morlini io lo sapevo ne ero consapevole insomma quindi perché l'ho già ascoltato altre volte con piacere però so quanto è difficile parlare dopo di lui per cui spero abbiate abbiate pietà di me insomma ci proverò no 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 lui lui poi ritirerà su insomma ovviamente l'audience immediatamente no dicevo sono tanti gli spunti che sono emersi dalla relazione del dottor Morlini non posso sottrarmi prima di di iniziare a parlare un po' di mediazione perché anche la frase di Calamandrei io quando parla di ricovero nella clinica giudiziaria penso più agli avvocati pronti al ricovero nella clinica giudiziaria perché il periodo per l'avvocatura non è dei migliori sotto molteplici punti di vista per cui la preoccupazione è più quella che prima o poi insomma io almeno sono abbastanza vicino al ricovero poi i dati giudiziari del nostro ministro recentemente diffusi mi hanno preoccupato ulteriormente perché ho pensato anche al ricovero per chi predispone quei dati non so se avete la stessa sensazione ma insomma nei tribunali che sono abituato a frequentare insomma questa percezione che il processo di primo grado durerà poco più di un anno 367 giorni a breve forse ho sbagliato tribunale tranne che a Modena forse tranne che a Modena presenti esclusi presenti esclusi no la precisazione che volevo fare è legata per iniziare è legata all'ambito dal quale ci muoviamo perché parlare di mediazione richiede diciamo una precisazione dopo aver parlato di negoziazione assistita perché chiaramente come faceva rilevare il dottor Morlini prima di negoziazione assistita e delle finalità della negoziazione assistita il legislatore ha detto con chiarezza quali sono gli obiettivi ma l'aveva detto anche per la mediazione l'obiettivo è sempre quello deflattivo è quello emergenziale noi siamo in una situazione drammatica per cui dobbiamo trovare il modo di smaltire il contenzioso arretrato e dobbiamo porre degli argini dei filtri all'accesso alla giurisdizione non voglio fare valutazioni diciamo di merito su questo aspetto ma vorrei fare una valutazione tecnica però che mi riporta a quanto diceva prima il dottor Morlini sia sulla costituzionalità della condizione di procedibilità in materia di negoziazione assistita sia sul numero di avvocati che assistono in mediazione su quanti avvocati occorrono perché io sono solito diciamo utilizzare per quanto possibile una critica costruttiva su questi strumenti perché credo che siano utili perché credo che siano indispensabili più che utili devo dire ma non tanto sull'onda della spinta emergenziale poi se avremo tempo vi dirò anche qualcosina in più su questo punto di recente e sicuramente ne siete chiaramente informati il legislatore si è trovato a recepire la direttiva numero 11 del 2013 in materia di ADR per i consumatori abbiamo assistito all'ennesima riforma parlo del decreto legislativo 130 del 2015 che ha inserito una serie di norme nell'ambito del codice del consumo parlo degli articoli 141 e seguenti del codice del consumo ebbene per la prima volta il legislatore europeo e il legislatore italiano hanno legiferato in materia di ADR e l'acronimo ADR è entrato nel lessico legislativo non tutti se ne sono resi conto però mentre prima discorrevamo di ADR in maniera diciamo così anche a tecnica oserei dire perché ciascuno aveva una sua diciamo definizione di ADR ciascuno discorreva di ADR facendo riferimento a parametri concetti che venivano da una dottrina piuttosto che dall'altra attualmente abbiamo una definizione di ADR una definizione che è molto chiara che ci dice attenzione per ADR si intende un sistema di risoluzione delle controverse alternativo adeguato poi definiamolo come vogliamo dove esiste però un sistema presidiato da un terzo imparziale quindi un elemento diciamo essenziale di un sistema ADR dal punto di vista giuridico è la presenza del terzo di un terzo imparziale tanto è vero che espressamente dalla definizione diciamo di ADR il legislatore italiano sulla base di quanto dice il legislatore europeo ha escluso la negoziazione diretta e tanto è vero che per rendere diciamo compatibile e di inserire nell'alvio della regolamentazione diciamo degli ADR del consumo la negoziazione paritetica quella dei consumatori per intenderci e mi riferisco all'articolo 141 ter nel codice del consumo come novellato ha dovuto creare diciamo una norma ad hoc già il legislatore europeo sulla spinta delle associazioni di consumo italiane per cui si è detto possono essere considerati a questi fini ai fini di questa disciplina assimilabili sostanzialmente compatibili con i sistemi di ADR anche le negoziazioni paritetiche purché non soltanto siano diciamo conformi ai requisiti degli ADR ma siano conformi ad altri requisiti che poi vengono elencati a preservare l'indipendenza di quel sistema di risoluzione di controverse quindi cosa voglio dire voglio dire che noi quando discorriamo adesso di ADR possiamo ricomprendere sicuramente la negoziazione assistita se vogliamo dare una visione diciamo così anche a tecnica generica del contesto del quale stiamo parlando cioè di uno strumento che ci aiuta a risolvere al di fuori del processo una controversia ma se vogliamo utilizzare un'accezione tecnica giuridica del sistema ADR adesso l'abbiamo ed espunge da questo sistema la negoziazione quando anche assistita perché l'assistenza dell'avvocato non trasforma né nella struttura né nella funzione il sistema della negoziazione in sistema di ADR in senso tecnico perché il terzo non c'è perché faccio questa premessa faccio questa premessa perché quando andiamo poi a discorrere complessivamente del sistema e diciamo ma in fondo sono la stessa cosa la negoziazione e la mediazione non è vero non è vero sappiamo che non è vero ma è ancora più vero che non è vero nel momento in cui ci rendiamo conto che la presenza del terzo è indispensabile per apprestare quelle garanzie che il legislatore europeo ed italiano adotta soltanto quando è presente un terzo quindi non è irrilevante la presenza del terzo il terzo anche se è semplicemente un facilitatore cioè un mediatore quindi è colui il quale aiuta le parti a trovare una soluzione riunendo le parti intorno al tavolo perché poi questa è l'espressione che utilizza anche il legislatore europeo e scusate a questo punto la negoziazione non è la stessa cosa non gode delle stesse garanzie non gode degli stessi presidi non gode delle stesse tutele allora il mio dubbio diciamo sulla costituzionalità e vengo diciamo al punto toccato dal giudice Morlini prima io sono perfettamente d'accordo con lui sul fatto che esaminando diciamo la normativa seguendo quelli che sono i canoni che noi abbiamo imparato a conoscere quando la corte costituzionale ha esaminato condizioni di procedibilità e quindi giurisdizione condizionata e legata a sistemi di tipo conciliativo lì il terzo c'era sempre erano tutti sistemi di tipo conciliativo nel senso che era sempre presente un terzo imparziale sia esso il conciliatore sia esso il mediatore la negoziazione assistita è costituisce condizioni di procedibilità dell'azione la domanda giudiziale come sistema di risoluzione delle controversie fuori dall'alveo degli ADR allora il mio dubbio ovviamente non è una certezza ne può esserlo il mio dubbio ed il dubbio che ho provato ad avanzare è ma davvero possiamo introdurre meccanismi di giurisdizione condizionati di qualsiasi tipo ma davvero possiamo utilizzare meccanismi di giurisdizione condizionata che ci aiutano a risolvere le liti sì ma nei quali non è presente un terzo imparziale quindi non gode di quelle garanzie apprestate dal legislatore europeo italiano per quei sistemi questo è il dubbio cioè il mio dubbio è legato al fatto che il rischio che si possono immaginare sistemi i più fantasiosi possibili posti quale filtro alla domanda giudiziale una volta aperta la negoziazione assistita si possa aprire ad altri il mio dubbio è legato al fatto che secondo me ed è un'opinione ovviamente del tutto personale che intanto si legittima una condizione di procedibilità in quanto si accede a sistemi che in maniera ragionevole legati alla presenza di un terzo con le garanzie apprestate dal legislatore consentono di risolvere la controversia con quelle garanzie ma d'altronde io ricordo l'eco è ancora viva insomma delle contestazioni che proprio noi avvocati abbiamo sollevato contro la mediazione non c'è il mediatore chi è? non è formato non è un giurista non consente un adeguato a tutela di diritti occorre la presenza obbligatoria dell'avvocato che originariamente non era prevista come fa il legislatore a prevedere una condizione di procedibilità se la mediazione il sistema mediazione non è sufficientemente in grado di garantire in quel contesto la tutela dei diritti delle parti è soltanto perché adesso nella mediazione ci sono gli avvocati e abbiamo risolto ogni problema il terzo non c'è dove si svolge la negoziazione assistita presso lo studio di uno dei due avvocati siamo davvero convinti quindi che la negoziazione possa essere un sistema costituzionalmente diciamo legittimo da questo punto di vista io qualche dubbio l'ho espresso così come la questione sul numero degli avvocati presenti in negoziazione se partiamo dall'assunto la riflessione che faceva il giudice Morlini è corretta perché nella materia diciamo familiare la precisazione del legislatore è opportuna in quel contesto occorre almeno un avvocato anche se sappiamo bene che invece addirittura davanti al tribunale ci si può andare a separate anche con l'assistenza di un solo avvocato qual è il dubbio a me pare che se noi discorriamo di negoziazione partiamo da un presupposto che ci sono due parti che stanno litigando che c'è una controversia come fa un avvocato ad assistere contemporaneamente due parti che litigano io non ci arrivo devo essere sincero proprio non ci arrivo cioè non riesco a capire quale ruolo possa avere l'avvocato che è di parte nella negoziazione assistita e deve essere di parte perché non c'è nessuna garanzia perché svolga un ruolo di terzo nella negoziazione assistita e svolgerebbe il ruolo di terzo se assistesse entrambi non sarebbe più un negoziatore negoziatore significa parte con la parte se assisto in negoziazione io sono parte con la parte se assisto entrambi le parti non posso essere parte con la parte sono necessariamente a questo punto terzo rispetto alle parti non posso essere parte con entrambi ho un ruolo diverso un ruolo di terzo ma non ci sono le garanzie nella norma dello svolgimento e della terzietà del ruolo perché il legislatore non lo prevede come tale quindi un'interpretazione che possa garantire la legittimità di tale previsione è necessariamente quella anche dal punto di vista deontologico che le parti debbano essere assistite a mio parere anche qui è un'opinione del tutto personale ovviamente da avvocati diversi e questo rientra proprio nella struttura del sistema di ADR se stiamo negoziando siamo in conflitto c'è una controversia ciascuno necessita del proprio avvocato parte con la parte negoziatore il negoziatore non sta in mezzo sta o a destra o a sinistra non può stare al centro scusa Marco è tutto logico ma siamo sicuri che la negoziazione è un ADR no secondo me un ADR secondo me non è un ADR secondo me non è un ADR però il negoziatore non può stare in mezzo è un fatto strutturale perché altrimenti l'avvocato cioè se io mi trovo in mezzo a due parti non posso assistere a nessuna delle due perché il momento in cui assisto a una delle due faccio torta all'altra assisterle entrambe è impossibile perché sono in conflitto hanno interessi contrapposti quindi avendo interessi contrapposti non posso assisterle entrambe non posso assolutamente fare l'interesse dell'uno a scapito dell'altra da negoziatore invece lo posso farlo ed è quello che devo fare cioè il ruolo dell'avvocato assiste la parte per raggiungere l'interesse che poi il ruolo dell'avvocato è scritto anche diciamo nella normativa professionale altra cosa è il terzo che è il mediatore chi sta nel mezzo tutto questo diciamo tutta questa riflessione mi nasceva diciamo dal fatto di di tanti dubbi che tutti noi avvocati abbiamo quando ci troviamo di fronte a questa a queste normative che spinte dall'esigenza emergenziale a volte presentano una serie di dubbi come diceva il dottor Morlini che sono decisamente difficili a volte da risolvere e molti le ha posti anche la normativa in materia di mediazione quando Guglielmo mi diceva parliamo un po' della giurisprudenza insomma ho provato insomma un po' di difficoltà ho provato a mettere insieme le parole dei giudici dico cominciamo a leggere magari le parole dei giudici e vediamo che cosa hanno detto ma prima di parlare di ciò che hanno detto facciamo un attimo il punto su cosa è accaduto negli ultimi sei anni perché ormai sono trascorsi sei anni quando parlavamo i primi tempi dopo l'approvazione del decreto 28 ci potevamo una serie di dubbi legati all'interpretazione di quelle norme dicevamo vedremo che cosa diranno poi i giudici perché è l'unico modo per capire qual è l'interpretazione che preverrà perché tutti noi dottrina avvocati ci potevamo una serie di dubbi e dicevamo beh ma allora a questo punto come faremo a sapere quale orientamento sarà prevalente dopo sei anni su alcuni punti abbiamo le idee chiare su altri punti abbiamo le idee ancora più confuse vi leggo diciamo un passaggio che mi sembra qualificante rispetto a quello che stiamo dicendo nell'ordinamento italiano la mediazione e l'attività svolta da un terzo imparziale mediatore è finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia anche con la formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa chi lo dice questo sicuramente lo dice l'articolo 1 del decreto legislativo 28 del 2010 quali sono le conseguenze pertanto l'incontro informativo di là dalla sua imperfetta formulazione normativa non è in mediazione ma solo una fase preliminare ad essa da ciò consegue con lo svolgimento di tal incontro non seguito da mediazione non rimuove salvo il caso di effettiva impossibilità a proseguire l'impossibilità della domanda 4 ore farò prima insomma però tranquilli per cui nell'ordinamento italiano esiste una ed una sola mediazione d'altronde il legislatore persegue l'obiettivo dell'accordo e della pacificazione è una domanda di mediazione che rimanga monca senza alcun seguito non serve a tale scopo esiste dunque una ed una sola mediazione inizio dalla fine cioè questa la leggerete lunedì sono solo 24 ore è l'ultima pronuncia diciamo ancora inedita del tribunale di Roma che arriva diciamo a queste conclusioni sulla scia ovviamente del tribunale di Firenze adesso lo vedremo per chiarire che nella demandata ma il ragionamento è generale come avrete intuito nel nostro ordinamento giuridico è descritto nell'articolo 1 del decreto 28 quando definisce la mediazione esiste una ed una sola mediazione la fase preliminare informativa è la prima volta che un giudice si esprime in maniera così precisa su questo aspetto perché c'è stata grande confusione lo sapete meglio di me la fase preliminare informativa articolo 8,1 del decreto 28 non è mediazione o comunque non esaurisce la mediazione su questo ovviamente non tutti sono d'accordo allora ritorniamo indietro proviamo a riavvolgere il nastro questa è l'ultima diciamo pronuncia e ripeto vi ho dato un'anteprima insomma su quello che leggerete la prossima settimana sulle 24 ore ci sono tre ordinanze che vi segnalo subito che ho definito i tre pilastri della mediazione giurisprudenziale italiana perché il diritto vivente chi lo chiama il formante giurisprudenziale insomma ciò che è stato scritto dalla giurisprudenza in questi ultimi anni che ha integrato chiarito interpretato le norme poste dal legislatore partono e diciamo e alla fine ritornano spesso su questi tre provvedimenti sono tre provvedimenti dello stesso magistrato e tutti quanti probabilmente li avete già letti però di un paio diciamo parleremo del secondo no perché non avremo tempo però io se non li avete letti ve li volevo segnalare perché perché al di là dal condividere o meno le conclusioni cui pervengono sono sicuramente i provvedimenti tra i tre provvedimenti chiave direi a distanza l'uno dall'altro che fissano dei passaggi fondamentali nell'ambito dell'evoluzione dell'interpretazione della mediazione di questi anni la dottoressa Breggia ha scritto diciamo nelle pagine di questi provvedimenti molto articolati le motivazioni cioè a me interessano davvero le motivazioni che sono state utilizzate che hanno grande attenzione grande rispetto per la mediazione molti magistrati si sono cimentati in questi anni diciamo nell'interpretazione della mediazione con grandissima diciamo serietà e con grandissima attenzione ma non tutti sono pervenuti a risultati direi che aiutano la mediazione il primo provvedimento è quello famosissimo direi che fa parte di una triade di provvedimenti ma è quello diciamo più argomentato più motivato più articolato dell'effettività della mediazione di cui parleremo a breve il secondo a distanza di poco meno di un anno sul gratuito patrocino in mediazione riconosciuto in funzione di presidente del tribunale la missione al gratuito patrocino dell'avvocato che della parte assistita all'avvocato che aveva patrocinato diciamo nel corso di una mediazione che era arrivata ad un accordo perché dove non c'è accordo è riconosciuta la possibilità di ottenere l'ammissione al gratuito patrocino dove ce l'accordo no con questo provvedimento la dottoressa Breggio in funzione di presidente del tribunale è arrivata dopo nove pagine di motivazione è arrivata a dire è assurdo dire di no è assurdo il contrario perché ha raggiunto il suo obiettivo per assurdo se la mediazione non raggiunge il suo fine poi si arriva nel processo gli riconosciamo il compenso all'avvocato se la mediazione arriva a buon fine invece non glielo riconosciamo questa è un po' la sintesi brutale diciamo del provvedimento e l'ultima quella più recente che nasce in relazione alla vicenda già evocata prima dal dottor Morlini relativa alla condizione di procedibilità nell'ambito dell'opposizione a decreto del giudizio e dell'opposizione a decreto ingiuntivo e si pone non è la prima e non sarà l'ultima contro diciamo quelle che in maniera diciamo argomentata e puntuale contro quelle che sono le motivazioni della Cassazione detto questo proviamo a vedere insieme che cosa è accaduto nell'ambito della mediazione nella giurisprudenza in materia di mediazione perché altrimenti ci perdiamo io vorrei richiamare diciamo la vostra attenzione sul fatto che mentre nei primi anni questo diciamo anche fino alla riforma del 2013 poi c'è stato un attimo un vuoto dopo la sentenza della Corte Costituzionale abbiamo avuto diciamo un periodo nel quale i giudici sono stati per lo più impegnati nel risolvere questioni interpretative per lo più marginali cioè legate per esempio all'ambito di operatività delle materie assoggettate alla condizione di procedibilità ex legge piuttosto che al tempo in cui diciamo alla vigenza diciamo delle norme in materia di mediazione soprattutto quando è obbligatoria e così via poi mano a mano l'attenzione dei giudici necessariamente si è spostata diciamo il baricentro dell'attenzione si è spostata verso altre problematiche soprattutto poi dopo il 2013 con la riforma sapete bene che l'articolo 8,1 ha dato diciamo una serie di problematiche interpretative legate appunto al famoso primo incontro e quindi alla valenza diciamo di questo primo incontro e le conseguenze poi della mancata partecipazione e ne parleremo a breve voglio segnalarvi però già una prima pronuncia vedete del 2012 dove già si diceva che la semplice presentazione della domanda di mediazione obbligatoria alla quale non segua la effettiva presentazione della parte istante davanti al mediatore non soddisfa il requisito minimo di legge perché possa affermarsi nel giudizio susseguente esperito il procedimento di mediazione e verificatasi le condizioni di procedibilità siamo ancora nel 2012 prima della pronuncia della corte costituzionale e prima ovviamente della riforma che ben conoscete del 2013 il giudice che poi ritroveremo al tribunale di Roma una volta diciamo soppressa alla sezione di Ostia di cui era presidente parlo del giudice Morricone in questa pronuncia ribadisce come sapete bene su questo non tutti sono d'accordo che è possibile applicare le norme in materia di rappresentanza sostanziale per la partecipazione in mediazione alla fine di questo provvedimento precisa che laddove il rappresentante è la parte istante della mediazione obbligatoria come nel caso in esame si è stato ridotto a mero annuncius la procedura di mediazione ai fini della procedibilità dell'azione giudiziale non può ritenersi ritualmente esperita quindi se da un lato sostiene che è possibile la rappresentanza diciamo in mediazione quindi l'avvocato dotato diciamo dei necessari poteri sostanziali non solo processuali perché come ben sapete è una rappresentanza tecnica quella processuale e non sostanziale in ogni caso è necessario che non venga ridotto a mero annuncius in questo caso se non ricordo male era arrivato un fax all'organismo di mediazione con la delega nella quale si diceva delego il signor Tizio a partecipare o l'avvocato non ricordo esattamente ma la cosa significativa era che diceva però vai a dichiarare soltanto che non siamo d'accordo insomma quindi l'aveva svuotato di poteri sostanziali pur delegandola alla partecipazione vedete che questo poi è uno dei problemi che si è riproposto ovviamente successivamente questo è un problema che all'epoca si poneva ma in maniera diversa e veniva risolto già però in una logica di effettività della mediazione poi è arrivato il primo incontro tutti voi sapete molto bene che questa norma nasce da un'esigenza ben precisa nasce da un'esigenza di alleggerire diciamo così il peso della obbligatorietà l'esigenza era chiara del legislatore una mediazione che dovesse essere svolta necessariamente con i relativi costi attenzione perché poi il problema si sposta ovviamente sul versante dei costi che è un problema che non è stato ancora affrontato diciamo secondo me in maniera adeguata speriamo lo faccia alla commissione poi se ho tempo vi dirò qualcosa sulla commissione ministeriale che sta lavorando diciamo al riordino all'armonizzazione di questi sistemi sta di fatto che per alleggerire il peso dell'obbligatorietà veniva introdotto questo primo incontro questo incontro che doveva in qualche modo consentire alle parti una sorta di fase filtro quindi la mediazione come filtro al giudizio e questo primo incontro come filtro alla mediazione diamo un'opportunità alle parti devono sì partecipare alla mediazione ma in qualche modo possono limitare la loro attività la loro partecipazione soltanto a questa fase preliminare direi informativa era un po' questa l'idea però un po' per come è stata scritta la norma un po' per quello che è accaduto nella prassi e chi svolge l'attività di mediatore lo sa bene ma anche chi svolge quello ovviamente come me di avvocato sa bene che cosa è successo è successo e continua a succedere nonostante quello che ha detto la giurisprudenza che spesso le parti mi riferisco soprattutto alle parti invitati non partecipano o non partecipano adducendo ragioni più o meno diciamo giustificate poi possiamo entrare nel merito dopo su quelli che sono i giustificati motivi di mancata partecipazione oppure ancora succede che partecipano perché adesso hanno capito che ci sono dei magistrati che sono un po' più attenti a questa fase però dichiarano semplicemente di aver partecipato solo al fine di ottenere il verbale negativo ai fini della procedibilità e quindi non si entra di fatto in mediazione non si avvia quella che poi è stata definita vedremo la mediazione vera e propria e allora ritorniamo al punto di partenza ordinanza del 19 marzo del 2014 ordinanza breggia con la quale la dottoressa breggia scrive non avrebbe molto senso parlare di mancato accordo e si riferisce all'articolo 5 comma 2 bis del decreto legislativo 28 se il primo incontro fosse destinato non a ricercare l'accordo ma solo la volontà di iniziare la mediazione vera e propria qual è il punto diciamo critico diciamo di questo passaggio interpretativo è che possiamo limitare la prima fase l'incontro informativo il mediatore informa le parti e così via e poi chiede alle parti beh che cosa volete fare e le parti rispondono no sono passato di qui per un saluto insomma è stato un piacere incontrarsi sarà un piacere ritrovarsi altrove ma di più non posso dire sia perché non voglio farlo sia perché magari chi mi ha delegato più delle volte accade questo sia esso una banca sia esso una compagnia assicurazione sia esso anche un privato cittadino un consumatore e così via non mi ha non mi ha delegato a dire di più e la dottoressa Breggio mette in evidenza appunto questa norma il 5 comma 2 bis che consente di ritenere sperita la mediazione soltanto se anche all'esito del primo incontro l'accordo non si è raggiunto quindi lo snodo diciamo interpretativo è legato proprio al 5 comma 2 bis che è la norma un po' critica del sistema diciamo approntato con la riforma del 2013 continua ancora l'ordinanza che chi l'ha letta sa bene quanto è articolata ci sono diversi punti sono sei punti che utilizza la dottoressa Breggio per diciamo arrivare a queste conclusioni io la semplifico per necessità ovviamente di tempo l'assenza delle parti rappresentate dai soli difensori dà vita ad altro sistema di soluzione dei conflitti che può avere la sua utilità non può considerarsi mediazione e questo è un punto secondo me fondamentale sul quale diciamo occorre tener presente la dottoressa Breggio dice io non sto dicendo che non si possano utilizzare altri sistemi però questa non è mediazione almeno non è la mediazione che ha scritto il nostro legislatore si può essere d'accordo o meno con questa interpretazione ma sicuramente al pregio diciamo della chiarezza rispetto all'interpretazione che ha scelto diciamo di assumere questa interpretazione poi fa un passo ulteriore perché nell'ordinanza del 19 marzo la dottoressa Breggia si era limitata diciamo ad affrontare il problema in una demandata quindi era una vicenda nella quale il giudice aveva disposto la mediazione in senso tecnico articolo 5,2 del decreto 28 2010 nell'ordinanza invece del 26 novembre scusate del 2014 nell'ordinanza poi del novembre dello stesso anno ribadisce che quella interpretazione che aveva adottato nel marzo non ritiene che si debba estendere anche alla mediazione preventiva quella diciamo prevista dal legislatore scusate nel comma 1 bis del medesimo articolo quella obbligatoria ex legge perché ritiene che la mediazione debba svolgersi effettivamente in quanto se in quella demandata dal giudice la valutazione di mediabilità è stata svolta appunto dal giudice nel caso concreto invece nel caso diciamo della mediazione obbligatoria ex legge è imposta dal legislatore sulla base di una valutazione di mediabilità in astratto in base alla tipologia di controversi e tale differenza dice la dottoressa Breggio non incide minimamente sulla natura della mediazione e quindi non appare rilevante per ritenere che la condizione di procedibilità possa ritenersi assolta con un mero incontro preliminare in cui le parti dichiarano la mancanza di volontà di svolgere la mediazione si apre quindi un filone interpretativo con questa ordinanza che ha trovato la condivisione in molti tribunali italiani tra l'altro in questi giorni proprio mi pare c'è un'ordinanza del 2 maggio scorso del tribunale di Modena non ricordo il magistrato per evitare la ola insomma sembra aver aderito diciamo a questo orientamento non ho letto il provvedimento ma solo la notizia quindi non sono in grado di darvi indicazioni ulteriori comunque è un'ordinanza del 2 maggio scorso sta di fatto che molti giudici italiani hanno ritenuto di condividere questa impostazione alcuni però con un distinguo importante che è legato proprio a questo passaggio che vi ho letto prima cioè non tutti i magistrati sono d'accordo perché questo è il vero diciamo punto critico che la mediazione debba essere effettiva in questi termini anche quando non è demandata dal giudice perché quando c'è l'ordine del giudice si dice in quel caso effettivamente c'è stata una selezione una mediazione selettiva una mediazione alla quale c'è stata una valutazione c'è un ordine del magistrato per cui sarebbe assolutamente improponibile l'idea di un giudice che si limita a ordine a una mediazione che si saurisce con l'informativa sulla mediazione informativa che hanno avuto le parti magari dall'avvocato che magari può dare il giudice in udienza e così via e quindi si limitano però a scrivere diciamo a perimetrare diciamo l'effettività della mediazione alla 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 demandata e non a quella obbligatoria preventiva ex legge devo dirvi che la dottoressa breggia sul punto ormai non discorre più nemmeno di mediazione effettiva perché l'esigenza di parlare di effettività della mediazione lei dice ed è corretto a mio parere è una diciamo è tautologico di fatto perché o è mediazione o non è mediazione che poi è un po' quello che vi ho letto prima essere il contenuto della sentenza di fine aprile scorso del tribunale di Roma dove il giudice Moriconi invece dice la mediazione è una una sola soltanto che Moriconi interpreta l'articolo 5,2bis come una svista del legislatore dice parla di accordo ma in realtà non voleva parlare di accordo perché secondo Moriconi per semplificare quell'incontro preliminare è in grado di esaurire ai fini della procedibilità del tentativo diciamo del procedimento di mediazione quando è condizione preventiva ex legge se la ordine del giudice no non so se sono stato chiaro insomma ma è diventato un po' uno scioglilingue ritrovarsi diciamo in questi orientamenti sempre in questa ordinanza la dottoressa Breggia dice anche una cosa importante e qui c'è l'ulteriore punto diciamo di dissenso con molti magistrati e anche su questo io sono stato devo dire un po' critico dice la dottoressa Breggia non è possibile applicare analogicamente le norme che nel processo consentono alla parte di farsi rappresentare al difensore su questo siamo d'accordo ma dice anche che non si possono utilizzare le norme sulla rappresentanza degli atti negoziali perché perché nella mediazione pur potendo dar luogo a un negozio o a una transazione si esplica attraverso un'attività che ha natura personalissima e non è delegabile era l'unico modo per giustificare degli ureconditi in qualche modo la partecipazione personale a tutti i costi su questo devo dire che c'è non tutti diciamo aderiscono a quest'ultimo passaggio ed effettivamente è il passaggio più critico perché arrivare a definire personalissima diciamo la partecipazione in mediazione è davvero questo il passaggio più delicato e un po' più impervio direi così da raggiungere e in effetti il tribunale di Palermo e qui cito il già citato giudice Ruvolo che ha dato un ottimo contributo uno dei magistrati che ha dato un ottimo contributo non solo sulla negoziazione assistita ma sulla mediazione che scrive infatti dissentendo ma insomma è precedente questo provvedimento è difficile sostenere che le parti devono essere personalmente presenti essendo loro diritto conferire eventualmente una procura di carattere sostanziale ad un altro soggetto arriviamo alla mancata partecipazione poi mi taccio insomma dopo non voglio superare i termini però se ci sono magari i dubbi possiamo parlarne dopo tranquillamente allora articolo 8 4 comma bis arriviamo diciamo a un altro punto particolarmente delicato perché sapete che questa è la famosa norma già richiamata prima proprio per distinguerla dalla negoziazione assistita che prevede le cosiddette sanzioni per chi non partecipa senza giustificato motivo alla mediazione ovviamente abbiamo riguardo alla parte invitata in mediazione questa norma è stata allargata come ricorderete ha subito diciamo alcune modifiche nel tempo l'attuale formulazione è composta di due parti l'una che fa riferimento all'articolo 116 comma 2 del codice diritto un po' debole che anche qui il giudice Moriconi ha tentato di utilizzare ma ovviamente ne ha messo in evidenza la debolezza di questa norma quella un pochino invece più più forte che è prevista appunto che prevede la sanzione pari al contributo unificato dovuto per il giudizio è quella poi che viene utilizzata e che non è scritta espressamente al legislatore che è l'articolo 96 comma 3 del codice di procedura civile sulla responsabilità processuale aggravata ebbene qui la giurisprudenza che cosa ci ha detto c'è già una pronuncia del 2012 molto interessante del tribunale di termini merese che non solo è interessante sotto il profilo della come dire dell'interpretazione che dà del giustificato motivo ma proprio come approccia il problema del giustificato motivo perché che cosa scrive qui il giudice la sussistenza di una situazione di litigiosità tra le parti non può di per sé sola giustificare il rifiuto di partecipare al procedimento di mediazione già che tale procedimento è principalmente volta ad attenuare la litigiosità tentando una composizione della lite basata su categorie concettuali del tutto differenti rispetto a quelle invocate in giudizio e che prescindono dall'attribuzione di torte e di ragioni mirando al perseguimento di un armonico contemperamento dei contrapposti interessi alle parti beh devo dire che questo giudice ha le idee molto chiare e devo dire che questo è uno dei punti di svolta anche sull'interpretazione del giustificato motivo perché una delle idee che era inizialmente emersa tra gli avvocati soprattutto era l'idea che si potesse in qualche modo giustificare l'assenza e mediazione sostenendo appunto che le parti avevano provato anche a negoziare o che comunque il conflitto era troppo acceso o che comunque l'altra diciamo versione è ho ragione tu hai torto o l'altra versione è una lite temeraria per cui diciamo non c'è possibilità di negoziare tentando di sottrarsi la mediazione su questo punto il tribunale di termini merese dice una cosa ben chiara poi su questa scia anche il tribunale di Roma ha sposato questo tipo di interpretazione per cui dice avere torto o ragione fa parte del giudizio per cui se c'è una causa in corso bene questo è il presupposto della mediazione non può costituire la ragione per esonerarsi legittimamente dal tavolo della mediazione stessa quindi questo tipo di approccio viene ritenuto addirittura irragionevole e inescusabile da parte del tribunale di Roma è interessante anche questa pronuncia del tribunale di Firenza qui il magistrato è un altro se non ricordo male Scionti se non erro qui il giudice si trovava di fronte a una situazione con più parti invitati in mediazione e erano stati addotti per le singole parti una serie di motivazioni c'era chi per esempio il padre il figlio erano andati forse in vacanza sulla neve avevano subito degli scontrini di acquisto insomma in una località sciistica qualcosa di questo tipo mentre invece poi c'era un'anziana signora che aveva esibito un certificato del dentista insomma che non aveva potuto partecipare avendo dovuto sottoporsi un trattamento diciamo odonteatrico urgente ebbene il giudice dice secondo me questi motivi non sono giustificati anche perché la stessa signora insomma anche la signora diciamo toagenaria che aveva avuto questo problema avrebbe potuto chiedere un rinvio sulla base diciamo di questa motivazione quindi vedete come l'approccio rispetto al giustificato motivo è abbastanza rigido è un approccio che tende a valorizzare non solo la partecipazione delle parti ma anche ad evitare che si possa utilizzare il giustificato emotivo in maniera strumentale e quindi evitare che le parti possano sottrarsi semplicemente dalla mediazione così il tribunale di Pavia addirittura rispetto a una parte residente all'estero ha stabilito che pur avendo delegato addirittura qui con idonea procura speciale notarile dice beh insomma qui avrebbe dovuto partecipare anche in videoconferenza ad esempio utilizzando la modalità telematica perché non ha partecipato e si è limitata a dare procura notarile mi fa piacere che partecipate attivamente significa che sono argomenti centrate insomma che vi fanno discutere c'è da discutere infatti su questi temi poi c'è sempre il giudice Ruvolo che non è l'unico diciamo su questa scia c'è anche il tribunale di Firenze con più magistrati che hanno posto un problema ma quando possiamo diciamo condannare quindi utilizzare il comma 4 bis dell'articolo 8 per diciamo sanzionare la parte qui ricorderete forse che c'era stato il famoso decreto a fine 2012 era nel governo Monti che aveva previsto che la condanna dovesse essere diciamo irrogata in prima udienza poi questo decreto era non è stato convertito e decaduto sta di fatto che i giudici hanno ritenuto che questa condanna possa essere diciamo disposta anche nell'udienza nella prima udienza o comunque nell'udienza successiva che segue diciamo alla mancata mediazione e anzi il tribunale di Palermo precisa in maniera puntuale che può essere disposta alla prima udienza una volta accertato chiaramente l'ingiustificato motivo quando il motivo dice non si è esplicitato sia già esplicitato scusate nella comparsa di risposta o alla prima udienza e sia valutato ingiustificato se non venga addotta alcuna ragione per l'assenza e mediazione è un'ipotesi che è capitata più volte infatti ci sono più volte le banche sono state ad esempio condannate per questa ragione in prima udienza o dice il dottor Ruvolo al termine della fase istruttoria quando il motivo sia allegato e si intenda provarlo o ancora nella fase decisoria quando la motivazione è dedotta sia ad esempio la temerarietà della lite e qui sembra far intendere che potrebbe essere un valido motivo per esonerarsi diciamo dalla mediazione la temerarietà della lite su questo punto c'è stata una pronuncia anche del tribunale di Monza se non ricordo male che ha ritenuto che se il giudice al termine del giudizio accerta appunto che la parte che non ha partecipato alla mediazione ritenendo di avere ragione e poi davvero ha ragione a quel punto il motivo diciamo è giustificato e quindi vai sente diciamo da questa condanna l'ultimo punto e chiudo che credo sia diciamo particolarmente di interesse per tutti noi è l'obbligo dell'assistenza legale qui sull'assistenza legale sapete bene che c'è un dubbio che alleggia diciamo interpretativo su queste norme perché nella notte in cui hanno riformato nel 2013 la mediazione non hanno fatto in tempo a coordinare le varie norme e per brevità non vi dico altro sta di fatto che le tre norme che si occupano dell'assistenza dell'avvocato in mediazione creano qualche dubbio e comunque non è prevista una sanzione espressa per la mancata assistenza in mediazione quindi c'è qualche dubbio rispetto alle conseguenze di una mediazione obbligatoria che giunge ad un esito negativo rispetto soprattutto alla condizione di procedibilità perché rispetto all'accordo beh su questo davvero non avrei dubbi è stato già invocato il professor Luiso da sempre insomma ha chiarito e credo che davvero su questo è difficile avere dubbi che la mancata assistenza in mediazione non possa incidere di per sé sul raggiungimento dell'accordo vi ricordo che esistono due circolari su questo aspetto coeve scritte lo stesso giorno nello stesso palazzo ma con due risultati direi un po' contrastanti perché mentre il CNF scrive che l'assistenza tecnica non è ben chiaro insomma e sembra riguardare ogni modello di mediazione e quindi anche oltre diciamo l'obbligatorietà e la mediazione la circolare del Ministero della Giustizia dice invece e mi sembra più ragionevole che l'assistenza dell'avvocato è obbligatoria soltanto quando la mediazione è obbligatoria ex legge o io dicessi perfetto arriva poi la direttiva europea di cui abbiamo parlato prima che ribadisce un principio già fissato dalle raccomandazioni del 98 e del 2001 a livello europeo che quando la controversa è una controversa che riguarda consumatori è una lite diciamo in materia di consumo le parti in particolare il consumatore non può essere obbligato a ricorrere a un avvocato che cosa accade lo scopriremo a breve cito questa volta Battisti lo scopriremo solo vivendo perché è uno dei problemi anche sul tavolo della commissione ministeriale che citavo prima ed è anche sul tavolo della commissione di giustizia perché il giudice Vaccare anche lui già citato del tribunale di Verona ha rimesso la questione pregiudiziale proprio rispetto anche a questo problema cioè a come si possa coniugare diciamo un sistema di ADR quindi anche di mediazione del consumo basato sulla volontarietà del sistema perché il sistema ADR di cui è la direttiva 11 del 2013 è basato sulla volontarietà con un sistema dove ci sono della mediazione dove anche l'ITI in materia di consumo pensate alle bancarie vi è un sistema non solo obbligatorio ma che prevede l'obbligatorietà dell'assistenza dell'avvocato obbligatorietà dell'assistenza dell'avvocato che è stata poi sostanzialmente legittimata proprio in virtù dell'obbligatorietà e quindi della condizione di procedibilità dell'azione sul punto e chiudo ci sono due pronunce che vi segnalo sono entrambe del tribunale di Torino l'una che insomma nel rilevare la mancata assistenza dell'avvocato in mediazione le ha rinviate in mediazione quindi non ha dichiarato immediatamente l'improcedibilità e quindi si è limitata a dire insomma che effettivamente mancava l'avvocato e quindi non era stato correttamente svolta la mediazione e l'altra invece un pochino più diciamo delicata e più recente era una controversia che aveva anche un valore abbastanza elevato come vedete nella slide materia di opposizione decreto ingiuntivo materia bancaria anche questa dove il giudice arriva a dichiarare l'improcedibilità quindi la mancata assistenza dell'avvocato condiziona ovviamente l'azione arriva a dichiarare la condizione di procedibilità non ritiene di applicare fortunatamente per la parte insomma il 96,3 ma le spese e non so il collega come ha spiegato diciamo al suo assistito la condanna perché come vedete è abbastanza significativa insomma non è facile spiegare a un cliente insomma che a causa della mancata assistenza e mediazione non solo ha perso la causa ma deve versare ben 17 mila euro insomma di spese mi fermo qui insomma per non rubare tempo all'avvocato Santi come vedete insomma il materiale per la discussione è amplissimo insomma se poi ci sono delle discussioni delle domande insomma delle riflessioni sono qui e vi ringrazio credo che Marco Marinaro abbia affrontato con la sua consueta chiarezza alcune tematiche giurisprudenziali che forse solo in parte ci erano note che il percorso della mediazione sia stato in questi anni più che tortuoso è una cosa che noi ben conosciamo e ciò nonostante come vi dicevo c'è diffuso un certo ottimismo sul fatto che finalmente se vogliamo visto che la obbligatorietà sembra essere una cosa ormai acclarata e insuperabile anche gli avvocati che assistono le parti in mediazione riescono ad avere oggi finalmente un atteggiamento differente nei confronti dell'istituto noi di queste cose abbiamo cominciato a parlare già nel 2011 direi o forse nel 2010 se non va darato con Angelo Santi che ricordo mi fu presentato da un comune amico a cui memoria perché non c'è più sono particolarmente legato ma con Angelo credo che abbiamo fatto qui a Modena lo dico senza piagerire nei suoi confronti perché siamo troppo amici per farlo un percorso importante credo che lui sia stato e sia ancora un po' un punto di riferimento per molti dei nostri mediatori avvocati e mediatori del nostro organismo con i quali spesso parliamo anche degli insegnamenti che di lui abbiamo avuto credo che a molti abbia trasmesso anche un po' di passione che sicuramente ha per la mediazione quindi siccome poi Angelo non è soltanto un formatore ma anche una persona in grado di essere estremamente chiara a mio avviso come sono stati il dottor Molini e il professor Marinaro sull'argomento gli lascio la parola ma lui visto che è un ex consigliere dell'ordine anche un argomento di carattere deontologico cioè il ruolo dell'avvocato e le opportunità professionali nelle procedure consensuali profili deontologici proprio perché in questi anni e come avete visto anche con riferimento ad alcune pronunce di cui abbiamo letto sempre di più ci si chiede fino a che punto il ruolo dell'avvocato in mediazione abbia dei profili deontologici di un certo rilievo e di una certa particolarità voi sapete credo ormai tutti che recentemente è stata è uscita una sentenza del TAR che ha disposto sul discorso della incompatibilità dei mediatori avvocati tutta una questione sicuramente attuale che avete visto è un po' una vittoria credo dell'avvocatura e anche del coordinamento della conciliazione forense che Angelo ha presieduto fino a pochi mesi fa che come dire apre secondo me qualche scenario importante soprattutto perché finalmente si comincia a considerare l'avvocato mediatore o soltanto il mediatore in ruoli anche se vogliamo nello stesso tempo conciliabili e in qualche modo non alternativi perché il mediatore non è l'abbiamo detto diecimila volte in tutte le salse un giudice non è una persona che deve decidere sui diritti ma è tutta un'altra persona è una persona che ha tutto un altro ruolo nei confronti di quelle che sono le aspettative delle parti Angelo a te grazie Guglielmo ringrazio l'ordine di Modena presidente Dondi per l'invito e naturalmente Guglielmo anche per per le parole che ha speso e forse dimenticandosi di dire che adesso è lui il responsabile del coordinamento quindi il crostino è passato è passato a lui l'ho fatto con molto piacere perché credo che l'ordine di Modena sia uno di quegli ordini che sia pure nelle perplessità iniziali che manifestate l'avvocatura però ha deciso di intraprendere un percorso credendo molto in questo percorso a differenza di altri ordini lo devo dire perché ci sono tanti altri ordini che l'hanno fatto con molta sufficienza quasi istituendo così formalmente l'organismo ci sono ordini che adesso non faccio i nomi uno anche abbastanza vicino a quello di Perugia che si vantava tre quattro anni fa dei dati pessimi del loro organismo a riprova del fatto che la mediazione non funzionava mi sembrava un po' darsi una lazza la zappa sui piedi come sei contento che non funziona l'organismo forse se ti impegnassi a farlo funzionare magari ne uscirebbe meglio l'ordine quindi l'atteggiamento sulla mediazione è stato molto variegato sia a livello di categoria sia a livello di ordini io in questo intervento mi piacerebbe toccare fondamentalmente e rapidamente perché non vorrei annoiarvi vedo che già siamo a un paio d'ore di convegno tre temi fondamentalmente il primo riguardante quello che è stato appena detto la mia opinione sui nuovi strumenti di ADR che sono stati assolutamente in maniera precisa e puntuale illustrati dal dottor Mollini e per quanto riguarda la mediazione da Marco Marinaro il secondo aspetto vorrei fare poi una considerazione sul ruolo dell'avvocato in queste procedure e concludere con alcuni spunti deontologici innanzitutto sui nuovi strumenti di ADR Guglielmo ha già espresso la sua opinione riguardo alla negoziazione assistita e credo che la sua opinione sia condivisa da molti appassionati della mediazione o meglio non vediamo certamente la negoziazione assistita come qualcosa di opposto di antitetico alla mediazione diciamo che quando il legislatore con assolutamente questo lo dobbiamo dire l'avallo dell'avvocatura in quel momento istituzionale ha approvato questo decreto 132 è stato presentato davvero come una panacea dei mali della giustizia e forse anche a livello politico anche fin troppo entusiasticamente perché il dottor Borlini ha appena sfiorato con una battuta l'arbitrato Forenze ma possiamo ufficialmente dire che era stata una presa in giro come dire predisporre una norma di quel tipo con l'idea che potesse funzionare quanti sono stati gli arbitrati in Italia? Zero si narra di un arbitrato si narra di un arbitrato ma non c'è alcuna certezza non c'è alcuna certezza e guardate che questa questa l'ha presentata l'ha presentata il Presidente del Consiglio col tanto di slide dicendo che d'ora in poi la giustizia si sarebbe fondata su negoziazione assistita e arbitrati forenzi era profondamente sbagliato pensare ma chi minimamente conosce l'arbitrato e qual è stata l'evoluzione dell'arbitrato la giurisprudenza costituzionale in tema di arbitrato che naturalmente non consente in Italia di prevedere arbitrati obbligatori quanto fosse inutile prevedere una forma arbitrale di quel tipo che inevitabilmente non può che essere diversamente quindi il vizio è genetico si fonda sul consenso delle parti quindi dice che semplicemente che due parti devono essere d'accordo per uscire dal processo dopo aver speso contributo unificato abbiamo fatto istruttori e tutto e andiamo a spendere altri soldi attenzione è uscito il decreto attuativo finalmente che ha ridotto di un terzo i compensi degli arbitri e però vai a spendere altri soldi per farti decidere la controversia da un avvocato la mia domanda quando appena vista la norma e commentandola mi ricordo con Mauro Bove che ha citato anche il dottor Morlini che è un professore a me molto vicino con il quale ci confrontiamo spesso la domanda era semplice ma se c'è l'intesa tra le parti al punto da fare un compromesso arbitrale io sono 15 anni che mi occupo anche di arbitrato non ho mai visto un compromesso arbitrale in vita mia non ho mai visto un compromesso arbitrale in vita mia se c'è l'intesa delle parti per arrivare a fare un compromesso perché non la devono conciliare è una domanda che è una cosa assolutamente più scontata ma sì era stata presentata con questa ambizione e chiudiamo sull'abitrato forense la negoziazione assistita il mio pensiero è diciamo forse leggermente diverso da quello che ho sentito prima nel senso che naturalmente ne vedo tutte le problematiche applicative però c'è un aspetto importante che deve essere secondo me sottolineato che con la negoziazione assistita non è stata esattamente la prima volta che questo già era successo con la mediazione però c'è stato dato il titolo esecutivo che gli avvocati possono generare con la firma a un accordo che sostanzialmente può avere benissimo le caratteristiche transattive cosa voglio dire che finalmente per la prima volta è stata attribuita agli avvocati il potere di generare un titolo esecutivo e badate che questa questione quando fu già prevista per la mediazione perché non è una novità assoluta in mediazione questo già lo si poteva fare dal 2013 di firmare un accordo di conciliazione di fronte al mediatore attestando e certificando la conformità alle norme imperative dell'ordine pubblico l'abbiamo visto con le slide del dottor Morlini generando il titolo esecutivo non è una concessione che era così scontata e ce la siamo dovuti comunque lottare con qualche altra categoria che non era proprio contenta di questa attribuzione e la famosa notte della mediazione quando venne convertito il decreto del fare nel 2013 questa norma venne prevista in quella notte dove probabilmente più di un parlamentare dormiva cosa forse non infrequente ed effettivamente quella norma venne approvata forse ad insaputa di qualche altra categoria nostra ugina che non aveva apprezzato quella norma quindi secondo me sulla negoziazione assistita almeno questo elemento di positivo andrebbe colto poi detto questo le mie perplessità sono assolutamente sul meccanismo della condizione di procedibilità cioè al di là di tutte le questioni che ci ha segnalato il dottor Morlini un'altra questione di fondo è funziona la condizione di procedibilità è efficace quella condizione di procedibilità basta una lettera da mandare alla mia controparte la controparte tace o non risponde entro 30 giorni la condizione di procedibilità è soddisfatta la mia perplessità è che effettivamente prevedere una condizione di procedibilità di questo tipo non abbia molto senso a differenza della mediazione quindi non voglio fare una difesa perché sono un convinto sostenitore della mediazione però cerco di guardare quello che già l'esperienza di questo primo anno perlomeno quello che mi riferiscono i colleghi queste lettere che vengono mandate soprattutto a compagnia di assicurazione non sortiscono grandi effetti quindi sapete bene che l'RC auto era stata tolta dalla mediazione secondo me opportunamente però nelle altre materie dove sono rimaste dove è rimasta l'obbligatorietà della mediazione in modo particolare in alcune particolari materie la condizione di procedibilità sta funzionando perché è una condizione di procedibilità molto più responsabilizzante per le parti le si devono presentare di fronte a un mediatore l'avvocato Marinaro ci ha appena ricordato le conseguenze che la giurisprudenza sta cominciando ad assumere riguardo alla mancata partecipazione quindi oggi le marcate partecipazioni si stanno riducendo molto in mediazione perché le parti preferiscono comunque per scongiurare le conseguenze il contributo unificato e le eventuali conseguenze processuali sulle spese preferiscono venire dopodiché però c'è un mediatore che a quel punto responsabilizza le parti tutto questo nella negoziazione assistita manca la mia ottica di tutto questo è in realtà che laddove ci sia davvero una volontà degli avvocati di coltivare una soluzione negoziale e lo possano fare senza l'ausilio di interzo benvenga per me la negoziazione dovrebbe essere ma non perché c'è la condizione di procedibilità dovrebbe essere comunque un primo step di approccio alla risoluzione del contenzioso quando io penso alla giurisdizione quella che viene chiamata adesso in modo particolare il presidente Danove di Milano è uscito con un'iniziativa molto forte alcuni mesi fa ma non tanti credo 3-4 mesi fa forse tu c'eri in quel convegno fece un convegno che ha fatto un po' come dire ha colpito un po' anche dal punto di vista del titolo perché ha intitolato un convegno il declino e la giurisdizione che forse tra avvocati alla fine è quasi un po' una pressa d'atto di una situazione effettiva e il presidente Danove ha iniziato a parlare sempre in maniera più insistente di una giurisdizione forense riferendosi fondamentalmente alla possibilità per gli avvocati di avere un ruolo chiaramente il termine giurisdizione in questo caso è evidentemente un termine a tecnico perché se per giurisdizione intendiamo la giudicazione qui parliamo anche di altro ma per giurisdizione forense si ha riferimento alle metodologie alternative laddove l'avvocato può giocare un ruolo importantissimo nell'accompagnare una parte verso la soluzione più adeguata ad ogni conflitto perché di questo stiamo parlando e oggi il ruolo dell'avvocato forse più di qualche tempo fa io credo prima Guglielmo diceva che l'atteggiamento dei colleghi è cambiato io nella mia esperienza devo dire assolutamente sì trovo ancora delle alcune sacche di resistenza e alcune sacche di ignoranza nei confronti della metodologia cioè mi trovo mi rendo conto subito quando ho di fronte un avvocato che magari per la prima volta o comunque non ha una grande esperienza di mediazioni perché non tanto per magari la contrarietà di fondo che mi può manifestare ma perché sta facendo male il suo mestiere oggi l'avvocato che ha iniziato a usare a cavalcare bene la soluzione consensuale la soluzione mediativa utilizza il mediatore perché sa come utilizzarlo e qui la considerazione che vorrei fare proprio sul ruolo dell'avvocato vengo al secondo punto di questo mio intervento questa mattina ho avuto una mediazione a Milano ogni mediazione mi insegna sempre qualche cosa e diciamo che era il terzo incontro quindi una mediazione proseguita era una una divisione una divisione ereditaria c'erano alcuni alcuni beni in comuni anzi pardon la mediazione era stata avviata a seguito di un decreto ingiuntivo che una sorella aveva fatto nei confronti di un'altra per ottenere alcuni canoni che questa sorella purtroppo ormai ne vediamo di tutti coloro in mediazione agli liti familiari sapete bene che sono tra le materie di obbligatorietà e quindi qui una sorella aveva fatto il decreto ingiuntivo ad un'altra sorella per avere indietro il 50% dei canoni che la sorella aveva percepito su un immobile di proprietà comune l'altra sorella aveva fatto opposizione a decreto ingiuntivo il giudice in questo caso non era una materia allocazione però il giudice aveva ritenuto visto il rapporto di parentela di ordinare la mediazione e è iniziata la mediazione a novembre a novembre scorso poi diciamo abbiamo deciso di iniziare la mediazione quindi di proseguire la mediazione però in realtà chiaramente eravamo già consapevoli gli avvocati assolutamente ancora più di me che il problema non erano i 10.000 euro del decreto ingiuntivo il problema era dividersi ancora quegli immobili che erano in comunione quindi si è detto iniziamo la mediazione se naturalmente verificheremo che ci siano le condizioni estenderemo la mediazione alla divisione ci sono stati tre rinvii di cui uno abbastanza lungo diciamo di natura tecnica perché era pendente un procedimento per la nomina di un amministratore di sostegno di una delle due sorelle quindi è chiaro che la mediazione fino a che era pendente questo procedimento non si poteva andare avanti questa mattina e per questo che ve ne sto parlando qual è la cosa che un po' mi ha sorpreso è che ci siamo ritrovati in mediazione finita l'amministrazione di sostegno potevamo entrare nel merito a un certo punto ho percepito qualcosa che non mi convinceva perché ho visto le colleghe all'improvviso molto collaborative nei precedenti incontri molto più chiuse insomma alla fine cerco facendo qualche domanda di capire quale fosse il problema che c'è stato qualche frizione qualche difficoltà di fatto stavano andando da sole avanti nella trattativa e non avevano sostanzialmente più bisogno del mediatore e avevano erano imbarazzate nel dirmi questa cosa io sinceramente perché a me mi ha colpito questa cosa perché in realtà una volta che è emersa questo aspetto io non ci ho trovato assolutamente nulla di male perché se c'è collaborazione sufficiente tra gli avvocati e non c'è bisogno del mediatore perché il mediatore serve se o tra gli avvocati non c'è perfetta comunicazione o soprattutto se il problema sono le parti le mediazioni più interessanti che mi è capitato di fare negli ultimi mesi è quando gli avvocati mi portano le parti e mi dicono guarda noi ci abbiamo provato ma non ci riusciamo quindi ti chiediamo aiuto perché talvolta anche lo stesso professionista nel momento in cui comincia a dire sicuramente sbagliato per carità buttare benzina sul fuoco quindi quando vedi un tuo cliente che attacca la controparte e dire sì c'ha ragione e tutto quanto ma non è facile nemmeno fare il contrario perché talvolta rischi anche di perdere credibilità perché quando tu avvocato comincia a dire al tuo cliente guardi che forse qui perdiamo il sospetto è sempre quello che c'è un avvocato che si sta tirando indietro mi sta ponendo un'altra espressione si sta tirando indietro vedo quale che ti ho guardato e allora a quel punto ed è una richiesta di aiuto e di intervento che mi sono sentito fare più volte in questi mesi e questo mi dimostra che c'è una certa di maturità e sensibilità crescente sulla mediazione perché questo davvero è l'intervento dove il mediatore che è una persona che deve guadagnare la fiducia di entrambe le parti e cercare di dare un proprio punto di vista il mio modo tipico di fare mediazione è evidenziare le parti quelle che possono essere i loro punti di debolezza per indurle naturalmente a ragionare su forse una pretesa eccessiva questo io comincio sempre così a minare certe convinzioni e magari se il mediatore riesce a guadagnarsi la fiducia delle parti forse talvolta riesce a dare una buona mano agli avvocati quindi non ci trovo niente di strano fino a che gli avvocati sono in grado di andare avanti di per sé ben venga la negoziazione assistita ma non quella che ha scritto il legislatore nel decreto 132 per negoziazione assistita per me è quella che tanti avvocati hanno sempre fatto e quello che già diceva Calama Andrei cent'anni fa detto questo sul ruolo dell'avvocato tre aspetti che mi piacerebbe sottolineare il primo è sempre e secondo me quella che io chiamo come dire la diagnosi corretta della controversia vedete il nostro sistema è una cosa che avevo scritto 15 anni fa però prima ancora di aver letto la cosa di Calama Andrei la frase di Calama Andrei l'ho letta un po' dopo però mi era venuto già la scritta dopo Calama Andrei questo non lo sapevo ha citato ha citato fantastico il paragone tra il settore giustizia è il settore sanitario il Calama Andrei parla della clinica giudiziare però il problema di fondo del nostro sistema giudiziario che adesso meno male con il decreto 28 una scappatoia gli è stata data perché fino al decreto 28 non c'era nemmeno questa scappatoia ma il problema di fondo nel nostro sistema giudiziario è che una controversia viene incardinata viene inquadrata non per quella che è la natura della controversia indirizzandola verso il canale più adeguato ma i sistemi di classificazione delle nostre controversie come sappiamo sono la materia sono il valore ma la materia è il valore che cosa ci dice in realtà di quello di cui stanno discutendo le parti pochissimo quando abbiamo detto che una controversia è in materia lavoro in realtà in materia lavoro potrebbe essere una controversia perché il lavoratore non è più in grado di pagare lo stipendio perché il lavoratore ha fatto qualche stupidaggine magari sanzionabile disciplinarmente o ha provocato un danno all'azienda perché semplicemente il datore di lavoro e il lavoratore non comunicano più in una piccola azienda a un certo punto un dipendente non sta più simpatico al datore di lavoro per carità non lo può licenziare però è un problema è un problema che può generare magari in futuro sono controversie diverse quindi quello che oggi c'è e che non c'era prima e sperando che i giudici ne facciano sempre maggior sapiente uso è quello di inquadrare la natura della controversia e soltanto se lo ritengono ordinare eventualmente alle parti di andare a provare a tentare di risolverla in un contesto diverso questo a mio avviso significa correttamente valutare fare una diagnosi della controversia naturalmente prima che questo arrivi sul tavolo del giudice la cosa più corretta è che lo faccia l'avvocato io quello che consiglio talvolta ricevo delle telefonate da colleghi che mi chiedono ma su questa materia la domanda più tipica fino a qualche tempo fa adesso ormai si è chiarita il preliminare di compravendita il preliminare di compravendita è materia obbligatoria adesso con un pochino di garbo l'ultima telefonata mi è arrivata 3-4 mesi fa e dico guarda preliminare di compravendita è materia obbligatoria non è diritto non stai discutendo del diritto reale però poi scatta la domanda successiva dico ma tu mi consiglieresti comunque di presentarla ecco questa è una domanda interessante cioè al di là del fatto se è obbligatorio o è meno valuta se ti è utile iniziare il tuo percorso di risoluzione della controversia con un tentativo di mediazione che anche se non è obbligatorio magari ti può servire magari talvolta e credo che gli avvocati lo facciano lo facciano già molti avvocati lo fanno iniziare con un tentativo transattivo con la controparte cosa ci consente questo? secondo aspetto importante del ruolo delle strategie dell'avvocato nelle ADR iniziare un percorso attraverso una domanda di mediazione ce l'hanno già ricordato il dottor Morlini per quanto riguarda più la negoziazione assistita ma anche l'avvocato Marinano ci consente anche eventualmente poi di chiedere al giudice se la parte non si presenta in mediazione questo è con lei lo faccio sempre presente di ricondurre le corrette conseguenze quindi eventualmente l'articolo per la mediazione abbiamo il 116,2 e l'articolo 96 terzo comma diciamo che dietro questo ci potrebbe essere una vera e propria strategia di utilizzo della mediazione e devo dire che sempre un numero crescente di colleghi cominciano a fare un ragionamento su queste possibili conseguenze quindi non solo attivare la mediazione perché ci credi può essere utile ma nella prospettiva se la parte non dovesse comparire eventualmente c'è una strategia successiva in giudizio e terzo punto che secondo me e che riguarda invece lo svolgimento della mediazione che dovrebbe essere tenuto assolutamente in considerazione è la come devo operare in serie di mediazione qui devo dire ecco forse ancora questo è l'aspetto più debole che riscontro nell'avvocatura cioè se è vero che trovo sempre meno contrarietà alla mediazione ancora proprio l'avvocato è eccellente nel 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 trattare nel negoziare non è frequentissimo e secondo me invece può fare la differenza questo però purtroppo ci deriva da un difetto formativo che ci portiamo dietro dall'università cioè noi fondamentalmente aspetti di comunicazione e di negoziazione non l'abbiamo mai studiati chi ha voluto se le andate a approfondire perché magari ha fatto un corso di mediazione perché magari ha fatto un corso di negoziazione ma per chi si è dovuto avvicinare alla mediazione soltanto perché l'ha prevista dal decreto 28 è un è un suggerimento che mi sentirei di dare non sottovalutate che saper negoziare in sede di mediazione o anche in sede di negoziazione assistita ti consente di ottenere dei risultati migliori per il cliente ci sono oggi delle tecniche oggi non certamente non si scopre non si scopre direi ci sono delle tecniche consolidate ma anche molto 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 banali per esempio vi faccio un esempio che è l'errore più frequente che mi vedo fare in sede di mediazione se tu hai discusso con il cliente e ti sei risoluto a un certo punto che il massimo della somma da offrire è 50 quella somma non me la devi dire subito perché se me la dici subito quella somma non mi consenti di fare bene il mio mestiere utilizzare il mediatore significa anche questo se io con il cliente l'ho convinto che abbiamo messo abbiamo calcolato un rischio causa e da quella da quell'ipotesi possiamo mettere in conto che in sede di mediazione sia giusto per il mio cliente pagare 50 io me la devo giocare in sede di mediazione quel 50 perché mai lei utilizzando bene con il mediatore ne posso anche uscirne con 40 e guardate che non è stato infrequente che mi sono sentito fare delle offerte che addirittura andavano oltre quello che l'altra parte avrebbe accettato a me nella mia non so guardate nella mia esperienza mi è successo 15 anni fa con un cliente e fu una cosa che non mi sono mai più dimenticato quando gli sono andato a proporre una parcellina anzi per me all'epoca era una bella parcellona era ancora il lire quando gli sono andato all'esito di una di una cosa che avevo seguito stragiudiziale una cessione di quote di azienda scusate una cessione di quote di un srl una cosa significativa ho fatto tutto l'ho invitato allo studio ho fatto tutto il mio giro di parole e tutto quanto e alla fine ho formulato la mia richiesta 10 milioni di lire all'epoca che per me era 15 anni fa insomma veramente una bella parcella ma la risposta del cliente mi ha gelato perché mi ha detto pensavo peggio e quel pensavo peggio è stato devastante per me perché ho commesso uno degli errori più gravi del negoziatore ho messo il mio paletto prima ancora di rendermi conto di quale poteva essere il paletto nell'altra parte io a quel punto stavo negoziando con il cliente io infatti d'ora in poi presento mi tengo sempre pronto a parte che adesso mai faccio il preventivo ma se mai non ho definito bene il preventivo presento un minimo e presento un massimo e prima gli dico il massimo e vedo la reazione e dopo mi regolo di conseguenza detto questo voglio concludere con alcuni spunti e profili deontologici ma credo che tra quello che abbiamo detto c'è già alcune cose significative allora tre aspetti che vorrei segnalarvi l'articolo 27 del codice deontologico scusate anche perché c'è una una sentenza della Cassazione freschissima che facevo leggere prima all'avvocato Marinaro che riguarda proprio questo aspetto l'articolo 27 cosa ci dice e guardate che questo c'è molto di quello di che voi abbiamo appena parlato cioè il l'informare il cliente consapevolizzare il cliente cioè rendere consapevole il cliente su quello che andremo a fare cioè se andiamo in giudizio questi sono i rischi ma possiamo avere queste alternative calcoliamo un rischio causa il rischio causa è questo possiamo legittimamente aspettarci che chiudere con questa somma in serie di conciliazione sia un buon risultato il codice deontologico ci dice che l'avvocato deve informare chiaramente la parte assistita all'atto dell'assunzione dell'incarico delle caratteristiche dell'importanza di quest'ultimo delle attività da espletare precisando le iniziative delle ipotesi di soluzione poi l'altro canone rilevante il terzo canone è sempre l'articolo 27 dove si dice che l'avvocato all'atto del conferimento dell'incarico deve informare la parte assistita chiaramente per iscritto della possibilità di avvalerci il procedimento di minimizzazione previsto dalla legge chiaramente questa informativa è anche prevista poi dal decreto 28 però qui il problema non è tanto la formalità della formalità dell'informativa che noi facciamo firmare al cliente perché temo che l'informativa sia possa non essere sufficiente se la Cassazione vi do i riferimenti ancora non ho letto il test integrale però è uscito la settimana scorsa il numero 7708 7708 del 19 aprile che è uscito un articolo su Italia Oggi titolato l'avvocato ha un tris di doveri e questi tris di doveri sono sollecitazione dissuasione e informazione queste sono parole della Cassazione dice è facoltare l'avvocato innanzitutto il dovere di sollecitazione cioè di chiedere al cliente tutti gli elementi necessari per valutare la controversia questo non è banale perché talvolta il cliente non ce le dice tutte le cose quindi questo è il primo aspetto importante ma ancora di più il secondo passaggio dice la Cassazione di sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole questa attenzione è un qualcosa che viene richiamato anche in altro passaggio del codice deontologico dove si dice che naturalmente l'avvocato non deve avallare liti temerarie però qui siamo un pochino sotto il confine della lite temeraria cioè qui attenzione quando l'esito può essere agevolmente prevedibile che sia spavorevole quindi ci sono forti rischi io lo devo informare e proseguendo nella sentenza terzo dovere che viene esternato è che l'avvocato deve informarlo molto chiaramente quindi non solo ma deve darne perché purtroppo questa vicenda della Cassazione nasce da una responsabilità professionale dove l'avvocato non aveva correttamente informato di tutte le conseguenze io purtroppo credo che ormai dobbiamo prendere atto che anche nella nostra disciplina ancora siamo lontani dai livelli di responsabilità dei medici per fortuna però dobbiamo cominciare a pensare a una sorta di consenso informato alla stessa stregua di quello dei medici che ovviamente non renderemo pubblico e conoscibile alla controparte ma io mi cautelo sempre di più scrivendo delle belle mail prima di notificare l'atto di citazione dove ho avvertito la parte di quali potrebbero essere possibili rischi fermo restando che se sono praticabili percorsi alternativi lo faccio ultime due cose flash perché non vi voglio annagliare ulteriormente sugli aspetti deontologici un aspetto molto delicato e questo riguarda sia la mediazione che la negoziazione è la confidenzialità perché sapete che sia nella negoziazione assistita e questi sono l'articolo 9,2 del decreto 132 sia nella mediazione tutti i contenuti si dice le informazioni acquisite e le dichiarazioni rese nel corso della procedura non sono utilizzabili nel successivo giudizio il problema qui a mio avviso ed è molto delicato è quando si può fare di queste informazioni un utilizzo abusivo cioè io ti produco un documento in sede di mediazione di negoziazione assistita proprio con l'idea di rendertelo di vietarti nella produzione in giudizio ovviamente qui quale dovrebbe essere ragionevolmente il discrimine che quel documento io non lo posso acquisire diversamente cioè ti do un documento o ti faccio visionare un documento e poi attenzione io ultimamente ci sto molto attento in mediazione perché con i telefonini si fa presto a fare una foto di un documento tendo a non lasciare mai il documento incustodito come dire senza la mia presenza alla parte documento che l'altra parte non voglia dare ma l'abbia semplicemente esibito in sede di mediazione però naturalmente interpretazione di buon senso dovrebbe essere che se io quel documento lo posso acquisire diversamente chiaramente anche se me l'hai prodotto in sede di mediazione non puoi vietarmi poi di esibirlo in giudizio perché in ogni caso posso averlo acquisito legittimamente altrove se invece è un tuo documento interno il classico documento interno alla società che mi potrebbe dar ragione io lo mostro al mediatore perché può servire ma quello chiaramente è un documento che non potrà essere prodotto quindi attenzione all'aspetto della confidenzialità perché è importantissimo però ci sono delle logiche abusive che vanno prevenute terza e ultima cosa invece la voglio fare su quello che appena detto Marco Marinaro sulla negoziazione assistita e il mononegoziatore e chiudo su questo lì secondo me la norma è assolutamente chiara nel prevedere e contemplare queste ipotesi cioè ce lo ricordava anche il dottor Morlini nella nella negoziazione in tema di famiglia è stato esplicitato che ci deve essere un avvocato per parte nella negoziazione al di fuori dell'ambito familiare questo non è stato fatto allora dobbiamo concludere che è possibile la negoziazione al di fuori dell'ambito familiare con un solo avvocato a mio avviso la previsione è chiara nel consentire questa ipotesi Marco Marinaro diceva attenzione perché come possiamo immaginare un negoziatore giustamente se lo consideriamo un negoziatore che possa negoziare per una parte e per la sua controparte il problema è che secondo me lì forse chi ha e c'è stata una manina che ha modificato quella norma e che l'ha voluto fare in quel senso non ha pensato a un profilo di negoziatore evidentemente a una sorta di mediatore privato non può essere un negoziatore che negozia per due parti evidentemente diventerà un mediatore privato e secondo me lì qual è il limite e c'è l'articolo 24 sui conflitti di interesse il limite è che naturalmente non tanto che io non lo possa fare perché la norma me lo consente il problema è se una delle due parti è stata già una mia cliente e allora mi ricado nella previsione dell'articolo 24 del conflitto di interessi quindi a mio avviso non è da escludersi che io lo possa fare ma nessuna delle due parti che vada ad esistere perché io a quel punto divento un mediatore privato nessuna di queste due parti può essere stata una mia cliente in precedenza grazie per l'attenzione sono le 6.05 credo che i nostri mandatori siano stati più che esaustivi ciò non di meno come si dice qui c'è un microfono per eventuali vostre domande non vedo mani alzate se siamo sicuri che nessuno ha qualche chiarimento da chiedere io ringrazio ancora una volta il dottor Gianluigi Vornini il professor Marco Marinare e Angelo Santi e naturalmente tutti voi per l'attenzione che avete prestato a questo pomeriggio di studio organizzato dal Consiglio dell'Ordine della Fondazione vi saluto e vi ringrazio e ovviamente ai prossimi appuntamenti grazie